Senti di mattina, no, 7 di sera, 7 di sera Twitch spooooooorrrtt Oh 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 Ok Allora, vai Abbiamo categoria Delu, quando vuoi O se vuoi me ne faccio una da solo Switch sports Ah Me l'hai messo tu Giacomi, grazie Sono bullenti delle comandini Comunque dicevo, sono andato tipo a dormire Mi sono messo nel letto tra le 7 e mezza e le 8 Secondo me Mi sono addormentato da pochino Mi sono svegliato a mezzanotte circa Per 10 minuti Non facevi speed racer, sì alle 6 Alle 6 con data Mi sono, cioè dicevo Mi sono svegliato Verso mezzanotte per una decina di minuti 10-20 minuti Mi sono addormentato e poi mi sono svegliato Tipo ogni ora Tipo alle 3, alle 4, alle 5 Un po' di volte Perché era un mix tra C'ho sonno Ma sto dormendo troppo Capito? Tututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututut un bel mix ma cosa non so se fare il prime a te o continuano a salvarmi dal masseo vai dove ti porta il cuore devi andare dove ti porta il cuore allora un giocatore che tocca fa tocca aprile bet facciamo una bullying di riscaldamento ma l'audio è troppo alto o pare solo a me timmi zazò l'audio va bene secondo voi all'evento poi di capcom di lc di resident evil ma non è oggi però è nei prossimi giorni ah allora aspetta gioco mi faccio tu 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 vai bet aperte ragazzi prima partita del giorno su bullying delu e io sto su ts sta finando di mangiare intanto me ne faccio una di riscaldamento mi sono preso la febbre a giugno azz e com'è successo hai preso freddo tu sei stato chi hai visto eh vecchio porco eh qualcosa su avatar cazzo c'è ubisoft oggi si sa se c'è ubisoft voglia eh a voglia a voglia il fan della gattina non si può vedere aspetta aperte ragazzi bettate sapientemente su questa prima partita del giorno con gli ostacoli bettate tutti i lows bettate tutti i lows abbiamo già perso però bettate almeno mezzo o meno di due punti eh non fate i tracks almeno sullo sport non fate i tracks che c'avete paura stare a scappare potrebbe lubustare e vincere a seconda di come vanno questi ostacoli c'è ok eh bella merda che c'è Nice Nice Fatto sta che siamo ancora dentro la partita ragazzi Non per dire Quello che mi ha fatto a fare strike voglio sapere Ma vanno a lanciarla così dritta Con questa cosa storta Scusate si poteva tirare dritta Ma dai Ma chi lo sapeva Eh Devo tirare forte E ho capito ma se è storto il coso Come fa Eh non gliene è freddato niente Dell'ostacolo Cazzo Avessi tirato un po' più forte forse era strike Cioè senza forza Che rallenta la palla Con le salite ovviamente Vabbè dai siamo terzi Quello doppio strike Ma come fa con gli ostacoli pure così Bet Già l'avete scommesso ragazzi Già sono state aperte e sono pure chiuse Due minuti di scommesse ci sono state Dovete essere svegli però Non è che potete chiedere bet dopo due minuti Fai in modo che c'entri sempre la palla Ma perché poi la palla segue la traiettoria Tipo Guarda che mandra di bot che ci sono Dov'è stai kurama? Poi mandra di bot Qua perde Qua perde Tutto Non vedi che bot Paraparampampampampampara Ma te hai trovato il primo tiro E stai lì con loro Ah perché sono forte Perché sono un campione kurama Che questo è strike L'ho chiamato Un po' più a destra devo dire Un po' più a destra devo dire Ragazzi in se può scende Cioè Ho uguale a uno che ha fatto strike Cerca di utilizzare una tua cellula psicomotoria Ho preso della concentrazione aggiuntiva ragazzi Fidatevi Non possiamo perdere Nostra È impossibile che qualcuno Che tre persone facciano 32 Che brivido Che brivido ragazzi Che brivido Allora Vabbè questa c'è Che facile fattura ragazzi Strike Eh Eh C'è Ma sei molto peloso Ma sei molto peloso Titti Mi sono sempre chiesto Se soffrite Più il caldo per quello Giulia Non lo so Se sarò peloso Giusto Non è che c'ho la pelliccia Cioè Fare una domanda un po' Rischioso Rischioso Ma ci crediamo Cazzo E come facciamo Come facciamo Ragazzi Quella non andrà mai Alla Pensavi di spaventarmi Vero Invece non eri così alto Noi le buffie Invece non funziona Non ce la faccio Magari hai fatto spaventare Di più le personistiche Riproviamo Delu Allora facciamo Finita di niente Allora ragazzi Quindi stiamo dicendo Qua Potevamo fare quasi Lo strecchio Oddio Che paura Aiuto Cos'è Via Dove l'altro Non ce lo stavo io Quanta roba ci sta Poi erano sette cose di fila Cioè tutte una dopo l'altra Mancava questo Però senti Ah come Ah porca di quella Puttana Dai Tutto il calcolo Della precisione L'hitbox Ma come fa l'hitbox Ma mettete la traiettoria Più grande Quanto la palla Allora Cioè Madonna Jimmy Jimmy Ma che cazzo Ma che tiro era Questo è strike Delu Che dici Ma che dici Dai Questa è una No Sono fuori per un punto Quella è a 79 Sono fuori per un punto Il punto di quella merda di coso Niente Vabbè Ma come si gioca online Io non l'ho mai giocato Delu Ah ok Si fa così E poi No Davvero Cazzo Assurdo eh Alla te se mi tocca Pranzare alle 5 Onesto Mi hanno inculato il delivery Che t'hanno fatto? Mi hanno inculato il delivery Che significa? Mi manda il messaggio Che l'hanno rubato Il delivery Mi dice Grazie per aver scelto Questa applicazione Questa è la che si è consegnato Si Ehm E chi si ruba il corriere? Si si Ha mandato la foto Boh aveva fame Pezzo di merda Eh però come funziona? Cioè poi in quel caso No? Tu fai la segnalazione E noi ti levano i soldi a lui Ma internamente penso di si E allora perché lo fanno? Boh perché magari Gli tolgono solo i soldi Del pranzo Quindi come se avessero pranzato Vabbè ma tu gli puoi mettere La recensione Si si no Gli scrivo No oddio Quello non lo so sai Eh Non l'ho mai Non l'ho mai visto Se si può fare Anco io Jimmy Vuoi essere scoppiato In questo momento? Ti distruggo eh Sicuramente si Ok Sto già Sto già facendo Allora Mette subito Il gatto console Proiettore a schermo Ho un isolatore qua Ok Boom Due Distruggo mentre mangio La pasta in bianco Integrale con il grana Capienza Due Password Stai giocando a Fortnite Tu in sto periodo? Eh Lu Ma non l'hai visto Cinque minuti fa Prima si Però dico in generale Hai giocato solo oggi O ci stai giocando? No no Sto giocando un botto 1-8-5-9 Ok Ok Niente Stavo aspetta Eh aspetta Non si sa che sta succedendo Possibile avere il controllo Della situazione Che cazzo è successo? Uno Famo 1-7-5-9 Ok Stanza creata Ma come spizzi 24? Aspetta che non ti trovo Ma io non ti ho tra gli amici No ma devi fare Entra dentro una partita E metti il codice No? Ah che dici di no? Dobbiamo essere amici su Switch? Allora gioca con gli amici Mi dice Perché gioca online e non c'è È solo gioca locale Sì Ok Poi mi dice Vabbè Prendo il mio personaggino Connessione a internet Crea nuova stanza E unisci Faccio unisciti Però mi dai amici Non mi faccio Allora ci dobbiamo inviare la richiesta Vabbè Ti dico qual è il mio numero Ma fallo te che lo vedi in stream Allora aspetta Lo faccio io Hai ricevuto 999 richieste di amicizia Sì Vado a rimettere qua Cerca tramite codice amico Che bet Ah oddio ma vi devo pagare quello di prima Che cos'era? Esci prima? Allora Purtroppo cosa scusa Non ho capito Eh sì Lì che parlava Mai l'Apple Watch? Sì Quando alzi il polso e parli Ti senti sempre E Allora codice amico Eccolo lì Sono 6 sport Io direi Fiamo una partita a ogni sport Sì Si può fare a tutte Non lo so Tipo calcio che fai 1v1 Eh sì Però in team differenti Quindi sì Si può fare Ok Le bet Cioè al meglio Eh diciamo Al meglio di 7 Se arriviamo a 3-3 Facciamo uno spareggio di bowling Andata Ok Allora Ho aggiunto Mario Stryker ce l'hai? Mi è arrivato oggi il pacco Eh Devo aprire il pacco Mi sa che mi è arrivato È enorme È grosso? A buon raguardo Fare del mio? Certo Ma no Quello già lo sapevo Infatti Infatti Beato te Chi soffre di micropenia Non può dire lo stesso Allora Bet Averte Adesso Me l'hai mandata Delu? Sì Come ti chiami? Pezzo di merda Ok Può fare uno meno a calcio? Ok ok E vediamo Sono curioso È la prima volta che gioco Con qualcuno Che conosco Se non le persone online Casuali Sai Non ci avevo ancora giocato Allora Se giochi come Come hai giocato Con il Masseo A Mario Stryker Non ci sono problemi Tu cosa hai visto? Scusa Hai visto il suo video Hai visto le stream Video Eh Allora Dalla mia visuale Non si capiva un cazzo Lui ce l'aveva tutta Bella pulita Da me C'erano 18 cose a schermo 18 cose a schermo Sai perché? Perché avevo abilitato Un aiuto È un sabotaggio Non è un aiuto Comunque mo lo vedi La vedi la lobby? Aspetta che La devo ricaricare Gioca online Un giocatore È un giocatore Sì sì Un giocatore Aspettate sapientemente E fate il vostro gioco Voglio vedere almeno Un milione di punti scommessi Su Nesta la fai direx Numero stanza 1759 1759 Ragazzi Bettate Considerevolmente Gentilmente Esatto Considerevolmente E sapientemente Esattamente Fan del nonno Fan del nonno Sono proprio io Io invece Sono fan della gattina La ducina in inglese Porca puttana Porca puttana Jimmy Vado a prendere da bere Ti lascio il controllo Della stream Un minuto Arrivo Eh questo è rischioso Vai vai Fate i bravi Allora ragazzi Bisogna trovare un metodo Intrattenitivo Mentre Jimmy Non c'è Tipo quando Jimmy Non c'è Bisogna trovare qualcosa Da fare Sempre Cioè tipo Anche quando è live Da solo Si sposta e se ne va Bisogna trovare qualcosa Da fare Cioè come se fosse Un minigioco Vostro in chat Sto pensando Che l'ho Allora ogni volta Che Jimmy Se ne va via Della stream Dovete cercare Di scrivere Uno dopo l'altro I numeri Da uno all'infinito Senza mai scrivere Lo stesso numero E in Senza mai Mettere il numero doppio Tipo cazzo ne so Dani Pasta in bianco Dani Tipo Dani mette uno Giulia mette due Pado mette tre Capito? E chi mette Il numero doppio Boom E il mod Lo trascrive Da qualche parte Però no Tutti insieme Cioè tipo Vedi Curva ha messo Uno due tre Andre avrebbe dovuto Mettere quattro E cioè Impossibile Capito? È impossibile Voglio vedere Oddio Uno due Eh C'è Eh vedi Vedi Porca boia Stavo rompendo tutto Vedi che è difficile Perché starà per là È difficilissimo Eh stavamo facendo un gioco con la chat Che gioco? Allora praticamente ogni volta che te ne vai Questo è un nuovo gioco E ormai è diventato il tuo marchio Ogni volta che te ne vai In chat Tutti insieme Devono iniziare a scrivere I numeri Dall'uno all'infinito Però senza mai mettere i doppi Quindi tipo Uno due tre In scala In ordine Senza però mai mettere il doppio Capito? Quindi non puoi mettere quattro Eh no 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 Non in quel senso Tipo cazzo non so Curva mette uno Shadow due Tia mette tre quattro Dani deve mettere cinque Non può mettere quattro Beh è impossibile Eh certo che è impossibile Quello bello Anche perché sai cosa Michael grazie No Michel 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 Mick Grazie per il prime Benvenuto da Dark La cosa La cosa è che Delu Quando C'è pure il delay Sì però No la chat è il tempo reale Il cazzo c'è il delay Eh no Io ho messo il delay Per gli spoiler Eh non c'è Eh i messaggi Io li vedo subito Ma che cazzo dici? Sì ti giuro Ho messo quattro secondi Ah oddio mi ricordo che c'era con l'impostazione Perché l'hai fatta sta cosa? Per gli spoiler O qualsiasi cosa bannabile Però principalmente spoiler Ah beh certo Perché hai la previsione della chat Bellissimo Come la puoi mettere alla CPU? Normale? Come vuoi tu? Sarebbe carino fare proprio 1v1 1v1 Però Allora aspetta che metto intanto il microfono Ho messo il microfono Che mi senti da lontano Così mi alzo anch'io No no c'è il chat Su 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 Donne È arrivato L'addobbino Porco boi Olè 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 Attenzione sono con Andy Oddio Dono Miguel È Miguel Hanno messo l'accetto Jimmy Tu quale sei quello verde? Sì Jimmy mi si è stilato l'accetto Manco lo uso il laccetto Ma la palla floscia no vecchio conio Ma che fai? Cazzo Eh certo sul bot vi pone Aspetta aspetta Jimmy perché mi sono rotto una mano Porca Aspetta che mi sono rotto una mano Jimmy Che hai fatto? Eh ho tirato una manata contro la porta Aspetta che l'ho chiusa Pezzo di merda E vabbè ma non si è sposta al personaggio scusami Distrutto Jimmy Non si è sposta al personaggio guarda dove stava Devastato Attenzione Attenzione alla battuta Ricchetto muscoloso Su Jimmy Con molta tranquillità Jimmy Tides ci prova Porca puttana bastarda Eh vabbè Schifosa E questa è la mossa finale Eh però i bot sono rincoglioniti Eh un po' troppo infatti Io pensavo che normale fosse normale Madonna ma sono degli amici di Sinto Eh volevi che te la tirassi forte eh Pezzo di merda che me la rischiacciavi dietro Cazzo Comunque te l'ho una domanda Tu c'hai un problema con le finestre dietro? In che senso con le finestre dietro? Io su sta mappa ma come altre Non riesco a vedere la palla Me la perdo in certi momenti Con la finestra dietro Minta Jimmy la palla è del colore opposto Colore opposto Ma è tutta Tutti i colori Ma che cazzo Io la vedo in un tarcobaleno tra un po' Ma che monitor hai? Ah il monitor che usa normalmente Eh che monitor Vabbè magari il monitor no? Ma 4k Mi sa che Mi sa che Penso da Wish No Ecco Jimmy ecco Jimmy Ci prova pezzo di merda Lo sapevo io Lo sapevo che dovevo coprire lì Bastardo Non sono felice Non sei felice? Non sei felice Sì 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 bandana Confermo È un po' Floscia Un po' Floscia Olè 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 È il momento È il momento Bravo bravo È Floscia Ma ci si può fare Boom Bello Bello Pericoloso Pericoloso La tira a destra La tira a destra Ma pezzo di merda Hai visto il bot Ma il bot? Ma dai Ma stai scherzando Eh beh però È un po' Too much Sweet Chris Ronaldo Aspetta che devo bere Vai Ci sei? Sì sì Boom Alla battuta Perché è comuscoloso Senza tutu questa volta Eh pensavi che Fossi rincoglionito io eh Chi è? Pericoloso Pericoloso Jimmy Tides Stop Mi hai fregato Mi hai fregato Bravo Boom Mamma mia È il più forte Guarda lì Con la bocca aperta Pagate ste bet Ma che pagate ste bet Oh cazzo Merda Stavo bevendo Ma poi è tutto il torneone Ah ok Ah tutto il torneone Eh sì Orca boia Allora non potete più cambiare Boys Eh sì eh E mi chiamo giocondo io E mi chiamo giocondo Ah No Pezzo di merda Madonna Poteva missarla Il cazzo di botte Cazzo è pericoloso Sta andando troppo avanti In questa situazione Eh vabbè Non ho capito Ma è impossibile È impossibile Vedi che non ti puoi spostare in tempo No non ce la fai Non ce la fai Non ce la fai Capito Perché non ti puoi muovere Effettivamente Oddio che cazzo è successo Cosa ho appena visto Damme la bene Damme la bene Eh colpa mia Usch Che dolore Ma te ne hai studiato il timing Comunque Non sbagli mai Sulla battuta Sulla schiacciata eh Usch Eh usch usch Che dolore Ti ho messo proprio con la scigalano Eh oh Mi tocca giocare con nano Cristo È fortissima Alice Ah Alice è fortissima Soprattutto a quel giochino lì Con la spadina Lì che è la roba No Che culo Madonna tutto flosho È brutto Ha preso pure ottimo Ma che tiro fai bot Ma sei rincoglionito Oddio No se il bot me la hinta Impazzisco eh Bam Bam Porca troia No Eh ho capito Mannaggia Ma il bot di merda Non si dà no Ma si sposta al bot Guarda guarda Ma che cazzo era quel muro Mi stai scherzando Intanto ora per forza È golden goal Ma sta andando avanti all'infinito No si ferma a 7 Si ferma a 7 Ah ok Vedi che è dorato il numeretto Madonna Dai luce stavi eh Ah si Pericolosa Avanza 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 bot È chiaramente bottata Questa situazione Ma come cazzo è possibile Una per me Ma porca troia Ma guarda adesso Cristo del signore Non è normale che è full game Dai Amo calcio Vai 1 contro 1 Ho 4 contro 4 Eh ormai ho fatto 1 contro 1 Vabbè quello che è sti cazzo Vediamo che succede Oh no Hanno pagato le bet Ah 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 Eh non è colpa mia ragazzi Ha fatto Giacomino Ah Eh che vedevo di Un saluto a Giacomino Eh Ha fatto Giacomino Assicurati Ogni partita Ogni partita Però non può essere 5 minuti Eh Aspettate 600 km Basta Eh no Giacomino Allora 30 secondi di scommessa Sul calcio ragazzi Senti la canzone 30 scommessi di secondi Cioè vabbè avete capito Ma cazzo 1v1 così Eh sì Mortacci Già perso Ma è il doppio palo No io impazzisco Io Degenero Degenero Impazzisco Già due pali Cosa stai facendo Lì dietro Pezzo di merda È perché sto recuperando fiato Era inutile Corri Artiviato Se dovevi fa Non ci posso credere Ma sei il boss finale No Ma che è Ma dai Ma era dentro Corri pezzo di merda Corri Ma che cazzo Ma non corre sto fottuto Perché Devi studiartela la cosa Vaffanculo E poi risparmela Perché è veramente lenta Sarebbe mezzo carino Se facessero quasi Mamma mia Sweet Crystal Heldo Varebbe quasi carino Se facessero come Come Rocket League Che hai presente Che hai in giro Gli sprint Da prendere Sì 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 Eh Non ci vico No Pezzo di merda Pezzo di merda Fagli un tackle No cazzo Dai No 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 più big Aiuto Pezzo di merda Pezzo di merda Ah Sono più stanco Sei più stanca tu Sei più stanco tu Bastardo No Ma dai Non ha sé Ma questa cosa Non ha sé Ma è tempo aggiuntivo adesso È golden goal Ma non ha vinti Il più forte Il più forte Cazzo il più forte Il più forte Ah no L'ho fatto fatto Due goal Non si sa come Accanto Ma io proprio Eh vabbè Devastato Dimmi Dovevo segnarti là La prima occasione Che c'ho avuto Devastato Puttana Eva Mi devo mettere L'apple watch Anch'io Che mi sa Che sto facendo palestra Vabbè Comunque Eh Cosa 1-1 Cioè 1-1 Sta Ma è che Eh sì no Vai tranquillo Siamo di badminton Va Badminton 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 È uno solo Badminton giusto Sì sì Bet 30 secondi Su veloci veloci Scommettete Rapidi rapidi Ho un minuto Non lo so Quanto ha messo Giacomino Rapidi e furiosi Ma anche ora c'è il summerfest Sette e mezza Sette e mezza Sette e mezza Scusami no no Alle otto Alle otto Alle otto Allora mi sa che attacco ora la Prima anch'io C'è la guardiamo insieme Eh sì pure il fazone Alle sette e mezza Attacco Sì sì c'è anche gamba Facciamo gruppone allora Ti schiaffeggio con questa Zanza Uccide Zanzarina Punta il joycon Al centro dello schermo Liberazione incredibile Ottieni 5 punti per vincere Vai Sweet Sweet Comunque qualcuno di voi Prima o qualche giorno fa Ho scritto Una tattica strana da seguire Ma io mica me la ricordo Qual era Però se me era molto buona Eccala Dai però guarda Che cazzo sta il personaggio Scusami Io comunque a Cianbarano e a questa cagata di Badminton Non perdo in altri modi se non per il personaggio posizionato male Ti ho presente quando il personaggio cade a terra e rimane 10 minuti a terra senza fare nulla Eh che fastidio Che fastidio Jimmy mi sta vendendo un'altra cagare Jimmy mi sta vendendo un crampo al bicipite 10 minuti a 10 minuti Che cosa fa? благ half Che cosa fa? ora ora che cazzo fa è matto il tricheco eh sì è doppia schiacciata male male aah mi ha strocchiato la spalla te lo sto a dire eh e la madonna cunfie del rotatore volata che cosa puoi fare? quattro punti le fatti perché il personaggio stava messo male ricco muscoloso pollice in su eccomi cazzo di palude no no è appunto l'ho cantata prima posta allora prega più cazzo nessuno di qui c'è amore per il cazzo cambara tutto 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 la conferenza le 20 però le 19 e 30 ho scritto alle 19 e 30 nel titolo perché io dovevo staccare e riattaccare invece abbiamo deciso di fare 12 ore come 12 ore a volta facette ore 51 ma sei matto e andremo avanti fino alla fine della conferenza bravo io c'ho un dildo rugato lo so che ti piace si è non mi ricordo bene come si gioca 7 che devi stete mi detto che giochi tanto ad alice con questo perdo sicuro porca madonna scusa ma non mi detto e alice è fortissima giocaccia ambara ci gioco sempre infatti mi ha rotto il culo ma non pensavo che io faccio a caso è ti giuro che non lo so come fai a caso non me lo ricordo come si gioca bene a questo coso quando vedo un momento di pausa io faccio vedi non me lo ricordo più perché il tutorial l'ho fatto il primo giorno un mese fa e chi l'ha più aperto il tutorial non so neanche come si veda mi ricordo come si parla con r2 si parla però non mi ricorda e non mi ricordo in che momento ti devo colpì come capito porco boia anche voglia e si a pippone alice spero che ti sia fiera di me anche se non ci stai guardando vabbè negrito disintegrato colverizzato ma dai ma cazzo ma niente cambara niente mi ricordo siamo 2 a 2 2 a 2 io calcio e cazzo e badminton ok 2 a 2 allora rischia è è rischiosa amo tennis vai a che mi fa un game al meglio di 3 al meglio di 5 al meglio di e come vuoi amo uno come gli altri a te che ora è che vai via che mi hai detto non ci sono ma no ma ce la facciamo ce la facciamo a farci full la gamba sinistra rotta tanto lo che ha fatto crack e si cambia si toglie tacca cazzo che bello sai che mina sarebbe devastante oddio mirror game essi riccheco contro jimmy perché hai fatto una fregna filmy perché mi piace di più guardare le signore molto bene mi pare giusto oddio ma pezzo di merda non ho capito non è uno il punteggio ma che è no no è 15 15 30 45 le troie oddio cosa t'ho messo ma che t'ho messo la è sempre la cosa che non ci si può muove però nel gioco online è il punteggio è 1 eccetera eccetera no 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 sì è male è sbagliato è così eh jimmy ne mosche sì io odio avere il secondo personaggio io ne voglio uno non capisco perché è tanto difficile metto un personaggio boh ma poi ti è mai capitato quando giochi online contro la gente randomica tu giochi da solo e contro le due personaggi e loro sono in due e controllano due personaggi ma scusa ma come si non ti è mai capitato no no a me più volte non ho mai giocato online ah io sì io sì lo faccio in streaming almeno una o due volte alla settimana lo faccio è giusto così e ragazzi è giusto così sì sì però vedi che mo non so 15 punti con 10 e mi hai mi hai un attimo scordito eh sì ma te te ce l'avevi la wii sì la wii sì assolutamente ci fai caso che tipo in ste cose delle comande della switch sono molto meno precisi assolutamente sì ma la barra aiutava in questo dai è a voi la barra quella di del senso aiutava tantissimo sì esatto esatto quella è molto più precisa infatti non so perché non l'hanno messa con tra che costa no più che altro va bene non la vuoi mettere perché anche hai capito questa cosa non è mai successa va bene che non la vuoi mettere perché magari vuoi fare anche la console che è portatile ma mettila come un oggetto extra da comprare adesso io voglio più precisione sì poto anche io anche perché pure sulla wii se ti ricordi c'era tipo il wii motion plus che tu dovevi comprare che era il cosetto che si metteva sotto i telecomandi e migliorava la precisione e migliorava la precisione quindi c'è madonna di dio ma che cazzo ho visto ma perché so come me l'hai data così però mi hai fatto fatto ma guarda sto coglione davanti che non ha senso raffaele nadal attenzione si fa 40 40 per sempre il vantaggio si era da qua a pari merito su 40 si va di vantaggi così che anche nel padre il tipo ma perché non riesce a fare le cose cioè sulla wii ti giuro che ammettita non hanno messo il golf non hanno messo la box non hanno messo un botto di roba il golf è quello che hanno detto che mettono è mortacci loro ma sti cazzo di dlc ma basta questi dlc e parti da quello che è switch cioè nintendo wii sport resort quello c'ha molti più sport cioè questo è proprio un downgrade ma tu ti ricordi quello col tappetino wii fit la balance no se n'era un altro che aveva un tappetino di plastica non rigido però tipo soffice e poi facevi c'erano mini giochi tipo le rapide i tronchi le tutti i giochi per fare fit mi ricordo come si chiama però ce l'avevo bellissimo ma io non me lo ricordo è devastante pooling vieni mi devi scattarti eh oddio siamo in 6 o in 8 allora allora pooling fetta aperte questa potrebbe essere o l'ultima sfida perchè se vince delu ha vinto tutto se vinco io andiamo a pari merito e si fa un ultimo spareggio sempre a pooling si comincia giacomi ha rifagato il bet aspettate sapientemente fate il vostro gioco fate il vostro gioco eh no è che sono lontano boys non mettete grossi punti ragazzi grossi punti sul pooling giovanna gelida gabi sono ok sindaco terrone ah è tirone non terrone eh sono loro chi stai a dire ma tu eri letto e c'era scritto il nome ma dove? e ti giuro madonna di cristo ragazzi ma com'è possibile questo shot ma che cazzo abbiamo potuto questa cosa? si una destra una sinistra? si ma dai eh Jimmy è impossibile è letteralmente impossibile no no possibile è possibile però si vabbè ma ma dai ti sto guardando ma Jimmy ma eh ho fatto la stessa roba oddio anch'io ho fatto la stessa roba vedi? che c'è ah no è tirone è tirone non terrone se la come dire se la pista fosse più larga e più profonda allora si potrebbe eh però che due coglioni è già la seconda volta siamo entrati in partita ragazzi boom spero no hai fatto strike? beh porca troia focus focus concentrazione è iniziato a male ma è recuperabile madonna di dieci Gabby sbrigati ma che poi potrei perché non ti fanno mai vedere cioè io vorrei vedere la visuale del personaggio piuttosto che guardare da lontano così a parte che i bot stavamo a giocare tra le due ma che mi fai vedere i bot ma che mi frega ad aspettare i bot no è impazzisco infatti ma calcolalo prima fammi schippare ma perché sai qual è la cosa sbagliata che io continuo a dire è che loro hanno fatto solo questa modalità torneo ma una partita normale non si può fare cioè vuoto vuoto esatto più che altro non lo v uno se io voglio giocare a mini giochi solo con te che cazzo me ne frega che è pieno di gente che gioca cioè hai fatto strike beh anche tu? no e beh questa però è già più semplice rispetto a quella di prima porca puttana oddio se quello lo prendevi avevi fatto sper no sper non lo so eh forse si è vero perché stava più avanti eh 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 ragazzi lo so sto deludendo sto deludendo ma hai visto che il summer game fest lo presenta la roccia però come ospite speciale si lo so spettacolare bellissimo mannaggia alle alle buttane ok eh Jimmy questo mi è toccato uno sper stiamo facendo a ping pong tu strike io sper io sper io sper io sper però io ho fatto due tiri tu stai uno di vantaggio perché ho fatto due tiri senza fare uno sper e invece solo un tiro senza sper eh dobbiamo guardarci il lavoro Steve eh lavoro Steve che non ce ne frega un cazzo ah tu stai guardando quitzrin rinquiz rincoglionita comunque lo scusa alla fine è una partita normale questa ho visto perché ci sono tutti i tiri vedi però devi guardare i bot eh l'ho trollata porca tra me l'ho trollata tantissimo questa l'ho trollata veramente tanto madonna che hai fatto hai rotto tutto hai sentito ho sentito il rumore ho preso la videocamera che sta sopra la videocamera quella che inquadra tipo la scrivania che cazzo ho preso malissimo no Jimmy ho sbagliato il tiro per ridere 7 e 1 oddio ok no l'ho trollata ma è possibile perché hai fatto due strike di fila l'ho trollata l'ho trollata no no ma adesso ti calcolo lo strike anche a te sei sopra di tanto anche eh no io mi ho fatto strike prima si eh ma no come no si però no e niente ormai sto trollando tutto troie onnipotenti buono 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 alla fine comunque almeno sto spermelo prendendo la cosa bella è che perdiamo entrambi tutte e due contro tutti i bot ah si quello sicuro si quella è la rottura di cazzo è vero vedi che sei avanti di uno mannaggia ne ho abbastato jade a giovanna a giovanna ma hai fatto lo stesso tiro prima giovanna ma ma c'è una pippona però so ok no jimmy è lo stesso tiro tu di prima due a destra o una a sinistra l'ho fatto strike ma che dici ma che dici dai cristo di dio della madonna di dio dai va bene ma che tiro di merda sei punti di vantaggio con uno spare dai 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 ma devo fare devo fare tutti i strike basta è andata quant'è il massimo che hai fatto su questo gioco di strike di fila 4 di fila più 5 gang mazza troppi contatti troppi contatti quindi ho due iphone orologio ma non ho troppo tempo mannaggia la bastarda oh girls ha vinto jimmy ragazzi pagate le bet oh girls pagate le bet ha vinto jimmy con calma con calma siamo ancora al settimo tiro mi sembra ottavo no no hai vinto tu ricordati che all'ultimo tiro te potresti fare tre strike di fila al decimo turno ok parca puttana guarda uff va al nono hai fatto strike? no che si cazzo hai fatto strike jimmy no ho fatto spare ottimo spare per poco ma sempre non lo so perché oggi rimane spesso quello di testa ma poi non posso neanche cambiare la camera su chi voglio io devo per forza guardarmi cazzo di botte a parte che non ha senso nel singolo cioè così guardarle se stiamo a giocando due ma a parte ciò anche nell'online mi vuoi far vedere gli altri ma fammeli vedere fammi switchare la visuale è certo puntatissimo hai fatto strike hai fatto strike delu porca troia era l'ultimo tiro potrei aver perso perso proprio era il decimo turno ragazzi mamma mia ragazzi qua si decide tutto vediamo non capisco se è positivo o negativo quello che stai dicendo non ti vedo vedo che cammini eh lo vedrai adesso jimmy attenzione gianfranco pronto a pagare le bet occhio effetti che cazzo ma a me non me ne frega niente di ok gabi cristo il signore quindi madonna che ansia suspense suspense che hai fatto delu hai fatto uno spero e poi non uno strike inizio 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 oddio oddio ma fa un culo che caga ma porca troia ma porca troia dai spareggio finale su che poi le devo andare a giocare al gioco della disney quale? multiversus? no quello è della multiversus è speed racer tipo vid racer si non mi ricordo come si chiama speed qualcosa l'ho fatto stamattina in stream dopo lo vedi con le macchine è un mario kart della disney ma che cazzo ma ufficiale? si si ma che figata devi chiedere l'accesso su steam speed storm cercalo disney speed storm dopo dopo me lo guardo a te è carino c'hai tutti i personaggi tipo c'hai jack sparrow c'hai topolino elisabeth suor nercules vari personaggi che storia? aperino e ogni personaggio ha anche delle abilità ma lo spareggio qua? eh si abbiamo detto così no? ok ok ma partiamo male ma dai vai a fare in culo ma vaffanculo e dai ok sui questo non è auto mulan è diventato occidentale ma non ci ha fatto caso in verità su questa cosa di mulan occidentale l'hanno occidentalizzata mulan? secondo me no non me la ricordo non ci ha fatto caso si ferrentesso dai doppio strike ti prego vai ragazzi ho visto uno strike sulla mia destra eri tu? non ero io perché Dave me l'ha detto prima che io lo facessi però ah e allora ha fatto strike anche la bastarda è Giovanna buono 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 cazzo sul bullying no però sul bullying non si può fare dai dai si gratta la testa Giovanna è burba lì come si chiama ok dai ooooo strike di nuovo beh ma sei un animale ma non è mai ma fai hai fatto tutti i strike punti 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 siamo caldi ma ma sei orrendo parli di te pazzesco guarda questo ha fatto tutti i strike molleggiare molleggiare ricordatevi molleggiare molleggiate molleggiate eh certo figurati 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 ma c'è un altro strike ancora guardo qui quanto siamo bollenti ma stai scherzando mi sono azionato toccandomi il braccio cazzo ma stai scherzando questa cosa qui è uno scherzo qualcuno mi dica che è uno scherzo vabbè ragazzi pagate già le bette pagate già le bette è chiaramente il campione di switch sports finito finito il divertimento ma mo lo sbaglio Dello certo ma è giusto così ho sentito il rumore ah Dello mi fa male la spalla aspetta guarda quanta polvere no è impossibile recuperarti ma stai cittando cazzo esatto c'è i tazzisi bravi spammato una volta tanto è l'emote meno utilizzato del canale boom cazzi allora quando tiro di merda faccio gli strike vediamo come stai andando guardalo guardalo vabbè ragazzi ma cosa sto giocando a fare io non ho capito questo è il mio record di fila comunque sei a sei? sei di fila ah si e chiudi la partita con lo strike cioè è una win giga meritata allora considera che già da adesso teoricamente hai già vinto perché anche se sbagli tutto fallo la cucaraccia sulla spiaggia Dello vieni con me ci facciamo una pinna colada guarda quanti punti ho io hai capito qual è la mia situazione psicologica in questo momento sono i tuoi Jimmy ma scusa è qua un rischiato in verità è l'ultimo che cadiva all'ultimo secondo è pure il mio ma sto adesso sono anch'io a due strike di fila però è impossibile recuperarti certo figura ti potevi fare il terzo di fila no? ci mancherebbe e col brillo rimane in piedi no Jimmy stai scherzando no mi lanca in bacino con me Dello ma guarda quanti punti guarda quanti punti no mo la sbaglio mi sento la mano sudata Dello mi stare mettendo sotto pressione no no devi per forza farlo Jimmy io sto tirando al cazzo di cane la sbaglio la sbaglio lo so ma allora non riesco a capire ma c'è il braccio bionico che la metti sempre nella stessa posizione cioè hai beccato hai beccato hai beccato l'inclinazione giusta guarda guarda 240 punti 100 punti in più ma questo è impossibile ma come cazzo è possibile ma è un game perfetto quasi mancano 3 strike Dello andiamo ole ole zero boom pagate le bet ragazzi no Jimmy no alla fine no alla fine no Jimmy alla fine no alla fine no alla fine no era il game perfetto cazzo vabbè era strike ah no ok e vabbè la pressione si è fatta sentire beh 9 strike di fila cioè sei orrendo trovati un'altra persona su Twitch Italia che ha fatto 9 strike di fila sei orrendo ok 276 punti record record fatemi fare una foto a questo a questo record vabbè almeno ci siamo acchiappati il podio fanculo no non ho fatto la foto è scattata è scappato via è tutto distrutto vabbè ci accontentiamo accettazione cos'è accettazione vabbè Jimmy accettazione cazzo devi fare il cosa hai fatto accettazione ah ah ma ok cos'è l'accettazione ah questa qui l'accettazione ah l'accettazione prima hai capito vabbè e vai Jimmy è stato un interessante è stato un interessante game di posso andare in bagno ti lascio un attimo qua vado a fare qui vai vai non mi insultare non mi insultare no 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 non credo torno subito arrivo easy intanto quando non ci sei ormai c'è il giochino vai boys vediamo uno è già errore due attenzione tre ok ci siamo fate piano fate piano boys eh vedi tre sbagliato eh bandana arrivi un quarto d'ora dopo ma come dobbiamo dobbiamo mettere un margine d'errore raga cioè tocca mettere un margine d'errore tipo di di due numeri o tre numeri perché sennò è impossibile perché sennò tipo dovrebbe dovreste capire ok otto vedi tipo ci sono quattro cinque otto due nove è impossibile si può fare però si può fare massimo 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 tre tre numeri uguali raga fate piano e se vi organizzaste tipo che ognuno mette un numero avete già fatto è il trick finale provare che poi in chat non boom vuoi vedere come la smurf o? azz fammi vedere come la smurf è da andare 15 16 tre numeri 16 ok ok avanti tre 17 è troppi 17 porca puttana ragazzi tutti 17 ok jimmy john del massasus sta funzionando questa cosa? era family trainer il gioco del è impossibile perché c'è quel delay che dicevi tu ah giusto sì family trainer dici no perché non era della switch era della wii io ne giocavo un altro sì sì è un altro ancora però però li vedo belli stanno tirando dritto i ragazzi stanno ce la stanno quasi per fare stanno trovando eh ho messo tipo un margine di errore di tre di tre numeri uguali ah e già ce la stavano facendo sì 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 ce la stavano facendo vedi ho trovato il modo di tenerti la chat attiva anche quando non sei all'instream easy eh mi ricordo che io mi ricordo che c'era un giochino proprio con un'estensione che si poteva fa puro caro curo quella roba lì che non savi forse sì io ho un il giorno in cui avevo lasciato per sbaglio la live è vero sì sì si si all'universi 100 messaggi ma che cazzo fai quasi ribaltato la tazza dell'infinito con tutta l'acqua sulla scrivania ma è quella della disney è la mia tazza ok dovresti farla fare su misura cioè dovresti farla fare apposta e farci mettere dentro tipo i cristalli illuminati a me piacerebbe piacerebbe tantissimo e e lo fai io vorrei che ogni gemma fosse dedicata a qualcosa come le gemma capito ogni gemma è ogni gemma è che ne so la gemma del potere la gemma dello spazio eccetera una cosa che mi piace ok tipo che ne so marvel star wars ah ok ok aspetta che rispondo un attimo al telefono al correre della droga sotto casa un attimo va bene dammelo un po' poi in quanto arriva la guardia di finanza cazzisco eh voglio uno anch'io pronto ok te ne spedisce metà sotto casa perfetto tra mezz'oretta è stata la te bello in elicottero esattamente esattamente jimmy io ti lascio fare le tue cose allora va bene va bene ci sentiamo dopo hai detto alle sette alle otto alle otto inizia l'evento e dura tra un'ora e mezza e due ore a seconda di quanto di come gestiscono la parte lì easy va bene andata no worries ci sentiamo dopo ciao ciao bello ciao jimmy ciao ciao allora tocca capire il signor dada dov'è dada andiamo da dada andiamo a sentire dada che ci dice dov'è innanzitutto jtaz ci ha sfidato io gli ho detto ti va di giocare a quel gioco di della disney con topolino e cazzi vari io gli ho detto si però devi fare il tutorial che sono tipo e lui non l'ha fatto il tutorial facciamo il tutorial così ci ripetiamo per sfidare come facciamo il tutorial poi che scammer tiziano poi alle a 8 si commenta che scammer la differenza di merda insieme quindi non l'ha già fatto non l'ha già fatto vabbè io sono senza parole e mo che si fa vabbè ci si allena si sbloccano le macchinine si sbloccano le macchinine allora o si sbloccano le macchinine o si torna su switch sports che volete fa blocchiamo le macchinine per mezz'ora allenamento duro o si si switch sports madonna quant'è alta la webcam lo so io basso oggi ci sono dei bei colori in stream vero sembrano belli allegri tutto ma non switch sports macchinine siamo macchinine famo un sondaggio famo un sondaggio nuovo sondaggio che famo per mezz'ora switch sports macchinine che poi in verità mezz'ora cioè nel senso io gli ho dato un'indicazione di mezz'ora dipende playstation si è alliccata da sola un big annuncio di stasera se vuoi cercalo su twitter no non lo voglio sapere e lo so insur lo so lo so insur però deve farsi il tutorial famo che ci alleniamo sul gioco dei macchinine l'ho scelto io può essere che l'ho scelto io posso aver scelto io visualizza i risultati vince le macchine con 100% 65 ma voi lo vedete il sondaggio io non lo vedo vabbè ho scelto io macchinine il sondaggio dei punti inutile come me disney kidstorm il vero problema non fai tutorial no non è una questione di tutorial vieni a giocare zazu ma non è una questione di tutorial ragazzi è una questione proprio di non poter giocare online se non di non poter giocare online se non se non fai tutta questa roba qua purtroppo insur ci sei ancora ciao carumon allora zazzone come faccio crea party facciamo tipo questo facciamolo così e niente non so se stavi guardando data però a titolo informativo serve che lui faccia tipo la seconda o la terza c'è scritto digli che c'è scritto nella lobby o magari lo saprà già cioè non lo so se vabbè era solo per sapere in verità quello che voglio dire è se mi ha aggiornato su quello che succede allora siamo tre giri zazzone andiamo paperino paperino oppure no mulan mi sembrava una bella sbroccata però mulan non ce l'abbiamo usiamo elisabeth va ok allora codice è questo sta entrando zazzone ma c'è qualcun altro di voi che lo ha ragazzi ok zazzone ci sta secondo me non c'è nessun altro da di voi però nel caso ditemelo eh se me lo dite vi faccio entrare tanto facciamoci questo tanto per se lo volete in ogni caso non mi stanno pagando per dirtelo magari cercatelo su steam è gratis però dovete dovete fare una richiesta di accesso anticipato tipo c'è un tasto capito allora brum brum mortangurelli quindi non si possono prendere due oggetti insieme insieme che palle la zona è messa a far culo dai dai cazzo l'avevo quasi preso eh ha lo scudo di merda dai 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 fino a cross il live fino alle 10 di stasera circa quando finisce l'evento e vabbè ma lui c'ha tutti i turbo gli capitano tutto il coso temporale è già la seconda volta zazzo che te capita dai niente impossibile giro finale no ma chi l'ha mai vista sta cosa una zona annichilito ma che culo a proposito di dare che l'ha stessa qualcosa su live action no più ricordi e niente ormai ha preso quel il vantaggio di prima irrecuperabile ma poi guarda che gli capitano a lui capitano tutte le cose per andare lontano i tele quei cosi la so c'è zazzo non sai il culo che c'hai avuto c'hai avuto 3 o 4 teletrasporti in avanti io mai mezzo io ho sempre avuto la roba per attaccarti ma che ci faccio può passare un po' la musica di gioco ah si scusate che hai fatto zazzo può cambiare personaggio oggetti li hai in base al pg che usi ma che dici che stai scherzando poi mette topolino va continua sa topolino dai capito siamo topolino va topolino livello 5 ci serve una sveglia ok zazzo ne parla no però possiamo farlo parlare vieni su discord zazzo i fratelli russo fanno il film di hercules mica me lo ricordo sentite ah vi apro le bet chi vince jimmy zazza un minuto di scommesse tu 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 allora dove stai zazzo 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 ne puoi parlare perché non ti fa parlare che tilt zazzo 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 il mio idolo virtuale preferito dopo fabio mollura e spara palle eh oh tocca eh tocca ho sbagliato quello del computer dove accendere discord eh succede e che hai preso paperino no no mi stai mi stai dicendo che è colpa mia se perdi mi stai dicendo che è colpa mia se perdi mi hai rubato tutto maledetto oh oh aspetta aspetta mamma mia ho usato l'abilità di dopolino non l'avevo mai usata io non ce l'ho ah perché sto a livello alto eh lo so che senti basta da zone devo cambiare computer dove è connesso possiamo mettere pausa secondo te se mettiamo pausa no non credo ok eh ma pure io lo sento basso ragazzi ok bene non è un problema no gioco oh va bene non è un problema che ti ho dato il dischetto e la bomba? tutte tue taglie è possibile da recuperare dici? beh come ero io prima eh ho preso quel quel recuperino infattibile da dai 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 da quanto stai a più ho preso la roba ho però guarda ho pure mollato il gioco ho provato ad aprire l'altro computer ma per metterti su discord ma non ci sono riuscito no la fita di junkie è carino eh guarda è come è come Mario Kart o CTR non cambia niente però con i personaggi della Disney le ambientazioni di Disney le abilità dei personaggi Disney oh mio dio te l'ho ripreso? no che cosa sta perso che sta dietro qualcosa vabbè 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 ma te ti dà per merda ma guarda tuo cazzo come è finita due volte l'ho usata quella abilità sai ho capito ma guarda quanto mi hai dato eh oh stucca ok oddio ma che oddio facile allora zazzo parla un po' dimmi mo lo sentite bene ragazzi mi sento meglio pure io mi senti meglio pure a me si mi sento meglio e perché? perché hai cambiato computer beh ma il microfono è uno vabbè ti sento meglio che ti devo dire ok no no buono 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 così te è meglio ok perché sei uscito? ho fatto già ben tu rientro allora vai bet pagate bet riaperte peccato che non si possa fare un torneino beh capito mette un attimo tipo due tre gare da fa il vero problema è peccato che non si possa giocare online vero se non con gli amici capito effettivamente questa cazzo di musica mi sta uccidendo le orecchie tu come hai fatto aveva la sblocca l'abilità tu hai fatto qualcosa no io ho solo giocato un po' ho fatto l'upgrade zazzo a che livello ce l'hai dopo lì? cinque eppure io che ne so compri un paio di mani sta buono ma posso modificare il veicolo? puoi mettere le cosettine estetiche se io qualcosina l'ho sbloccata ecco perché andai più veloce allora siamo pronti eh pronto a perde? aspetta non riesco a capire come cazzo hai fatto a fare? e poi a me sta caricando la mappa te la vedi la mappa col filmato? assolutamente no questo è bugato qui te la gare beh non ti voglio di che sta nel menu eh vabbè però sto nel menu però stai nel menu esatto ce sta ce sta ce sta giusto così allora ah ok vai non ci sono nemmeno i bot da poter mettere no purtroppo no è letteralmente 1v1 no vai adesso prima non c'era bravo a te mi vedi dagli amici di steam eh? come funziona? non credo di averti dagli amici di steam come si zazzo? vabbè giovanite col codice tipo c'hai Mulan come fai ad avere Mulan? e guarda quanto piange questo che parli? ue 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 perché c'hai Mulan? vecchio porco? questo è spassa gratis com'è gratis? questa cosa eh? io mica lo sapevo che cambiava in base alla al personaggio sai? ah ma vado più veloce pure io cazzo ridi davvero? non mi sa di dire ci passi sopra? volevi eh ma no ma stai tipo allagga troppo nella visuale mia io? si che è sicuro di no il gioco è il gioco sicuramente e vabbè comunque qua la roba è rotta certo eh si è rotta che si ma infatti io che l'avo sottoparlato tutto Polino ma da quando l'ho visto quella è stata la voglia si è rotta che è successo? ma hai rotto la macchina ma perché io ti vedo davanti a me? ma sei davanti a me? si o sei dietro? e perché mi dici che so primo? però io so primo ah ok chiaro chiaro scusa scusa e che ne so sei tu che mi hai fatto la macumba storta prima? si comunque corre troppo di più cioè non ce l'indiamo ah 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 cazzo là c'era il turbo ma che giocato ho fatto? è da proprio un chilometro eh si io sto prendendo il turbo per terra ma non lo voda cioè te l'ho detto dai luca è carino hai preso il mio turbo guardia tu sto ma che turbo? ho preso il terzo giro vuole il turbo preso ma mi sa dalla bilia di mulanda che è una merda eh quella serve per far fuori la gente eh si stai a 18 chilometri beh con 3 bot in single play era molto utile eh si quello si sta bene vabbè eh zazzo sta c'è che devo stare che devo stare giusto mi ha ridato un'altra abilità di sparare cioè mi fa un po' piacere comunque a me vanno due volte di fila quella di topolino ah bene una scherzina magari te lo diamo anche una terza volta faccio una bella terapata aspetto un quarto d'ora ma la stai a vedere la minimappa dove sto io zazzo? si si ma a me mi sta saltata la macchina da solo ed è un po' strana come roba no cosa che c'ho la limetta a sinistra può buona porta è facile che sto continuando a stampare ce lo faccio lo mantengo una giornata vabbè si è c'è un giochino vuoi dire è come mario kart o ctr ci mettono i personaggini le mappette carine come te sono anche la musica in verità ma perché è sempre di sconnesso ti dice ma che cazzo party not found ora si ora si ah perché devi fa tu e poi devo uscire eh può essere no volevo cambia mappa eh vabbè eh lo cambiamo eh no avevo messo già play ah ma hai startato vettri aperti ebbettate sapientemente mi sapete dire data come sta messo tutto un col tutorial e tutto e poi pure sta cosa ma perché uno deve essere costretto a giocare 10 gare la ah si io l'avevo messo un po' a de meno cioè sono veramente stavo stavo su twitch no acceleravo e acceleravo su twitch vai io me l'ho fermato perché sono perché ti sei fermato perché sono beh ma no ma non era per ditte che è uomo ma scusami ma a me mi pare di averte tirato una cosa che ti dovrebbe essere già macchina perché sei comunque davanti a me perché se c'ho le mani non fa po' culo dai attivato turbo che vai a l'ho già attivato non l'hai visto tu hai proprio un 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 sei un un sembra un ragazzo cioè guarda quanto dopo quel teletrasporto cioè è assurda quella cosa sembra lento allora no il punto è che vi può sembrare lento perché siamo in due no ma sembra lento pure quando vedi eh a me sembra lento lento vabbè potrebbero rendere le macchine più veloci sì sì non senti la velocità che c'è tipo in mario kart o quello sì è vero o in ctr non male che però mi piace per i personaggi per i personaggi le abilità capito non lo so le mappe un altro mulan oddio l'ho quasi preso eh c'avevo lo scudo che culo guarda quanto cazzo mi hai dato un po' assurda come roba però vabbè ecco ci trovo sta ci trovo sta un po' troppile effettivamente me so fatto me so fatto me so fatto me da mappa no ma me so fatto me so fatto fregata dal pendolo beh come se cambiasse qualcuno a me mi sta ridando cioè gli ha ridato pure l'abilità raga cioè a me mi sta da quella di mulan un'altra porta ne la faccio più frate che cosa hai fatto un'altra volta mi sta ridando solo quello di mulan eh pure io prima c'avevo cioè tu c'avevi solo sto cazzo del trasporto io non c'avevo niente cioè c'avevo solo le cose che ti attaccano capiti cioè capisci capisci che non è non è utile infatti dovrebbero cambiarla un po' sta cosa cioè dovrebbero fare secondo me che ok c'hai le abilità ma cioè ti puoi fare la build ok ma ma non è che cambia in base al personaggio cioè ti puoi fare anche la build in base al personaggio però io devo poter usare tutte le abilità su tutti i personaggi secondo me tu metti gli oggetti che ti piacciono si esatto come strada sbagliata sono morto zazzo giorgio ma sta parlando il giro regà falsesco bella guamina madonna si è bloccato mi ha dato appena 10 km madonna il stronzo che so si è colpa mia però potevo andare più veloce che hai fatto nulla hai preso semplicemente un teletrasporto e gli hai dato 50 metri ma non solo il teletrasporto ma ho dato anche poi il super eh ho visto fanmi ma ho dato il potere di un lanno meno male madonna ciao roxas come multiverso se il gioco non si rinnava un hit 8 quella giornalmente è quasi vera dura poco certo però è come cioè come Mario Kart non è che duri il gioco il gioco sta sempre là non è che ci abbia chissà cosa eh però ogni tanto si può giocare non è che cambi niente il concetto è esattamente lo stesso eh si se ci fossero musicori generali di Disney piuttosto che sta roba perma elettronica nell'orecchio per 10 minuti sempre tutto uguale sarebbe forse è un po' più carino ma io sono l'avvivo a 1 non c'è ma troppo ma tu mi hai stufato tu s'avrì messo la stessa mappa che cazzo ma te mi hai stufato ma poi cioè ma ti pare equilibrato cosa cosa ti pare equilibrato ma metti anche tutto Polino ma non c'è il potere non so perché ma almeno c'hai il turbetto quello piccolino vabbè io piango io mi diverto a un gioco di macchine per bambini quindi ci sta divertendo beh è adatto a te no? ma c'hai due anni in più di me non è che ce n'hai 40 ma ancora sapevo sta cosa Scusa mi sei nel 2000 si questa è una è una vabbè ti mi hai remonto un po' per cazzo ho preso con la bomba si mentre ti stavo a sparare con cosa di Mulan dai ti ho dato il potere se vediamo a fine gara dai ma non me l'hai dato non me l'hai dato quello del turbo dici? no non ce l'ho senti io ti vorrei dire una cosa in più che non sai però perché ta dovrei dire già vai così veloce dai dimmela ma non ce penso proprio quando salto quando salto devo fare l'acrobazia si può fare l'acrobazia? si non lo sapevi? no si metta il turbo in più non l'ho ancora ben capita come cosa però la sto facendo ogni volta e ho questa percezione di turbo vabbè che cos'è che devo fare? non l'avete cosa? non c'ho nulla da ditte dai non so di chi stai a parlare anzi mi sta cominciando da un po' fastidio ecco dai dimmelo non lo uso però lo voglio sapere no certo e se tu con gli oggetti se tieni prima il triangolo lo potenzia è vero non lo fai mai no aspetta che lo provo tipo il il teletrasporto non so cosa cambia ma credo che anche il mio anche il mio superpotere dici? no quello non lo so non lo ho un palline si ah ok hai diventato di porco baleno eeeh dai raga va ancora più veloce di prima non male si vola vai che ti raggiungo amico vabbè appena appena arriva data quindi lo sfondo ragazzi cioè con tutti sti trucchi che che sappiamo non male non male questa gira uso un po' il mio potere ma questa cosa è spruccata e comunque fa pensa la modalità in cui tutti sono uguali era troppo difficile secondo me eh secondo me era un po' troppo difficile effettivamente dici oh aspetta ho preso la super alberto di mulino arcobaleno guarda quanto va più veloce rispetto a me aspetta l'ho ripresa ah ok madonna c'è un po' di zella tua c'è un po' di zella mi sa si 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 ha dato il potere di mulan meno male non male non ho parole no me l'ha ridato eh mi stai proprio a giro io non c'ho parole io non c'ho parole io non c'ho parole io non c'ho parole è clown mi ha trovato un clown eeeh dov'è allora no molto guida in attimo no no tu mi sa dà fastidio due due stelle servono per sbloccare questa abilità e tu hai due stelle sul topolino quindi non male non so che sono le stelle io per sé io sì che ne so penso che ti avessi superato cazzo vi facevo perdere le bet è vero è vero vai metti anche il topolino zazzo posso cercare di capire sta roba fammi uno di uno di topolino fidati che comunque è worth però l'abbiamo fatto prima mi hai dato il cazzo no io non ce l'avevo topolino eh sì sì c'è avuto facciamo topolino e topolino la seconda cosa io non so come se potenzia upgrade servono gli oggetti tipo ho bisogno di una sveglia viola ma io c'ho il livello 5 come te quindi vuol dire che stiamo stesso livello perché tu lì c'hai due stelle a sinistra io una perché c'ho le mani coglianito non ti sopporto aspetta aspetta in modo polino ma sei felice vince anche il topolino dai ma devi essere più fiducioso in te stesso però un po' 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 devi credere in te stesso ma tu pensa se dovessi vince ora il 14 per cento scommetto ma infatti dovete dare fiducia a zazzone ragazzi perché fiducia che c'è la macchina più forte ma questo ha fatto i dubbi a perfezione si può dare più forte al mondo che c'è dietro che mi ha sparato ma porca troia ma perché io sì e lui no che ho fatto dai oddio ho smurfato le buzze state dietro ho saltato sto continuando a saltare all'infinito sto continuando a saltare che cazzo è successo? ho tirato una bomba e le ah no no ho fatto andare su una strada laterale tipo non male comunque ho sperato no mi continuo a saltare la macchina ma questo è un problema no devo cambiare il fatto no ok ma che cosa ma che cosa ecco me sto andando io ah ok chiaro a me mi sta saltando la macchina tutti i due ma perché ti preme il quadrato? no perché si può saltare pure con la livezza sinistra in alto e ci avrò potente la livezza troia ma non è vero a me non funziona a me sì che cazzo mi sono venuti no frate è ingestibile ok oh mio dio oh mio dio wow oh mio dio oh mio dio ragazzi è assurdo oddio vabbè basta di fare la formula 1 no? come si chiama? il porpusing esatto che adesso si rimbalza non riesco a prendere i turbi perché salta la macchina no aiuta questo vabbè è un po' il vero ma c'è un altro scusa da zoo eh sì è quello che sto a fare aspetta è quello? ma stavamo provata a me n'altro ah scusami ah ma te ti stai ah mi firmo mi firmo mi firmo che si fermasse ti faccio una domanda arvolo come si fa retromarcia L2 eh no in verità non si fa retromarcia io sto provando a frenare ma non è che freni molto anche perché sto beccando solo di turbo il gioco lo potete scaricare tutti ragazzi ma per ora è solo in beta mamma mia dovete chiedere l'accesso alla beta sto giocando online sì 1v1 con zazzone purtroppo non c'è un online grande in questa beta cioè non è che si può fare il matchmaking non lo sapevo però ma vede pure a me almeno dopo sì vabbè Gigi bella win ti ci ho recuperato un po'? Gigi no pia per culo eh ma pia per culo tranquillo pia per culo tanto non c'è modo in quale io possa vincere ma in verità stai qua zazzone ok chiaro gli è esploso un secondo prima e gli è arrivato il clown chi è di qua? sta me l'hai scollegato mi ha fatto che è successo? ti sei scollegato il controller? mi fermo mi fermo la song sotto è della disney almeno c'è una canzazzina della disney tu 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 e vabbè programma per il tuo pad ok eh ha ripetato andare dai vinci sta gara su dai che pari la tua guarda ma aspetta che clown che clown no lo sta rifacendo ok finisci sta gara per favore che palla è proprio un clown comunque questa era pure mezzo mezzo guarda che ho pensato vincessi te sai io ho tenuto è partita proprio ma secondo me c'è che che stupido se stacca e si riattacca ogni blu ok ah no allora bettiri aperte mettate seguentemente fate il vostro gioco sto sperando da trebette che vinca zazzone zazzone ce la può fare zazzone è tutti noi ma smetti di farmi per culo no zazzone no no aspetta un attimo ah scusa vabbè comunque tu sei un clown cioè tu me ne avevo fastidio eh ma me lo devi dire prima ho capito ma da un bel tempo di entrare non è bene entrare la stessa gara e mi ha rotto pure le quartiere ma perché me sbaglio ma perché penso che sia penso che sia un cazzo di 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 circuito di un torneo che cambia cioè hai fatto anche tu il super turbo eh non so che farlo ma te lo faccio lo scudo zazzone che clown cioè già gli ha dato il potere io non c'ho parole ho che clown ma che sei primo scusami oh ok va bene allora buttami fuori tranquillo quanto ho toccato tranquillo amico non è un problema coda di merda che c'è comunque sta davanti lui questa roba è incredibile ok va bene chiaro cosa è successo per esempio ci siamo lanciati insieme la roba ho tirato una bomba dietro e non ti ho preso eh no perché pure io l'ho non so questa chiave così va va no sei scollegato ma scusa ma collegano col cavo posso ripartire ah vai parti meno male che mi hai detto sicuramente è collegato con un po' con cosa ma scusa quanti pad hai qua su lei si è tutti rotti zazzo che ce fai ma nulla c'è gioco c'è giochi giocare significa lanciarli qualche altro no non ho mai lanciato un pad ti lanci ma poi gioco sempre al pc io quindi c'è nel senso piacere un altro ma dovrò non c'è uno dell'xbox anche se no no scusa ma tu che console c'hai la play che play ah si e non c'è più la 4 si è posta dell'anno vabbè pure i pad della 4 vanno ma grazie comunque trattami come uno stronza cosa no è ravi ditte no no 3d pure il mio che carità ma ti devo aspettare zazzo no vai vai tranquillo no t'aspetto no ma io spero tu ti stai divertiti ecco è una donna cs4 windows no male no male comunque in tutto ciò guarda che mi stai riprende io mica ho trollato se sei un clown e basta ho ricurato marcio non hai scattato questo urbo ah un altro dai non male non male ti metti in altro e un altro oh c'è un rosso sta poi se ho sbagliato ho perso un potenziamento zazzo donno che peccato eh eh si quando esce questo gioco entro quest'anno che mai vi fatto scusa è dream è dream no che oh no ce l'ho indietro hai vinto te no ce l'ho fiamma hai vinto te hai vinto te oh che clown oh che clown hai vinto te che noia che noia che noia che noia ragazzi giusto per dire voi avete scommesso mille punti sulla loss e 38.000 sulla win mamma che noia che data data mi sta aspettando ok e dove 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 avevamo un discord dove siamo stati insieme io non me lo ricordo ah data mi sta mi ha scritto ah ma che ma ok zazzo ti saluto qua però se vuoi in verità puoi giocare ah ah sto bene va bene ciao pronto data oh ciao stai a posto mi senti come stai si ti sento a scatti tipo prova a parlare un po' mi senti si sento dei pezzi che pezzi eh non lo so di una frase di senso compiuto se sei capace la Lazio vince lo scudetto fra due anni vabbè questa è una gran cazzata la Roma lo vince nel 2027 questa è una gran realtà ah allora mi senti funziona si si funziona funziona allora hai fatto il tutorial purtroppo si devo dire che è un grandissimo gioco di merda però no dai non ti piace è carino si ma tiziano come ti chiamo tiziano titti ma perché hanno detto manco la madre lo chiama tiziano in effetti va bene allora hai notato che non c'è la sensazione di velocità lo so è lento però io sono felice perché c'è stato polino si anche Dario sarà felice ma non vuol dire niente vabbè io preferisco c'è stato polino a me mi sta venire pure la vomita non so perché mi da motion sickness c'è sta un modo per toglielo sto motion sickness secondo te no a me non fa nessun effetto però nelle impostazioni non ci sta tipo nulla puoi modificare la grafica e mettere ultra cose ma non pensi a quello no ma ci stanno tre cazzate effettivamente magari la videocamera che è cinematica o stidi ho messo stidi ho messo stidi e io ho cinematica invece se non mi da fastidio aspetta che non devo dire allora ti do il codice della stanza no vieni te già sto dentro eh perché io c'ho gente dentro ah ok io ce n'ho uno però vengo da te e faccio venire pure lui ok da zoo guarda il codice e io aspetta devo uscire come faccio ad uscire qua allora un attimo eh join a party dimmi aspetta come faccio a scriverlo il codice è ma come si scrive di y2 allora eh ma come si scrive join su join eh ma poi non mi fa scrive che è il fazone c'è il fazone no il fazone non penso ci sta qua su team speak con me hai detto zazzone zazzone ah zazzone zazzone non fazone zazzone che è zazzone è zazzone è venuto dalla chat mia allora davide ah ecco ridimmi un po' com'è davide ah ok yorm ok due ronaldo ah xaka ecco la x vero si ok kalashnikov che è con la k si madonna mia ma quando ti potevi dire il codice fiscale e queste cose qua ti inventi tutte ste si mi diverto un botto ok allora ah e tutti i topolino che cringe enormi dai ma poi perché i topolino ma paperino il paperino è quello sfigato pure ce l'ho a paperino però vedrai topolino che te fa vabbè ma poi c'ha l'abilità di topolino che fa ah siamo tutti amici no no ma di che è quella più sbroccata di tutte ridi ridi mo vedi ti ho invitato alla squad stream mi ricordo che ti è sbroccata vai vai ah 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 è vero zazzone mi seguiva in live dicevo tipo cinque persone in live magari c'è il founder e lui era uno di quelli no 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 non mi ha fatto abbonamento ci ha mancato abbonamento che direi così e io facevo la trilogia di uncharted di merda vabbè bella si è bella è bella è bella sto scherzando finché non l'hai fatta 2016 ah ma si era già uscita tutta si ah forse era 27 non mi ricordo no 2016 già mi avete rotto il cazzo te lo dico ma hanno fatto buttare l'abilità di topolino chi è stato st infame mi ha toccato ma che fa l'abilità di topolino eh ti fa una strada di super turbo ma non come non come pegaso eh no 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 quella è pegaso quella è di hercules lui va in automatico topolino è sbroccata ok è il primo che mi sta da una pista anche madonna questo è il secondo ha mattinato ammortarci tu a salvo ma non ti è andato a montare ti chiedo anche per danni no vabbè ci avete pure il tele tu devi accazzarti in bocca via qua ahia no non mi funziona più la macchina che è che me l'ha rotta è stato tu godazzi maleditto hai lanciato la roba viola no non ero io ah perché la roba viola ti disattiva si non ho più il controllo della macchina e si schianta da sola oh pure non lo sapevo fino a che ho giocato con i bot bella sei da money grazie per essere per i gradi altra zona ti è da fastidio se ringrazio il live no ok no non so come fare voi no no uguale uguale senti mi spieghi la lord di black adam perché io ho fatto una gaffe io pensavo fosse una roba biblica una roba biblica perché si chiama adam ho pensato ad adam no no è a origine egizie teoricamente dovrebbe essere un guerriero qua da quel cano detto nel film è tipo un ex schiavo e ha ricevuto i poteri dallo stesso stregone che li diede a è quello che c'è al potere del dominare canzoni sì mi pare di sì nel film di shazam c'era sta cosa ma perché shazam è quello eh ma come stefan ma hai detto sta cazzata in mezzo c'è un flashback di qualcosa sai ma è shazam è quello doppiato da merluzzo sì e lo sai che derock si mangia 7 kg di merluzzo al giorno è tutto collegato sicuramente è collegatissimo madonna ma come faccia essere secondo chi è primo ma guarda tu sta chi è salvo hai detto è salvo è fortissimo vabbè ma quanto tempo c'ha giocato l'hanno messo ieri sto gioco ma che ne so vabbè ma giusto valermo non devi iniziare a ma poi io sono ultimo cristo addio ho preso 16.000 boost eh tu madre arriva ok guarda un altro ho perso c'è manco sul podio lo ma sei qua vabbè guardo ma è ma ma te la 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 disney ti segue mi stream eh beh so che mi conoscono poi non lo so perchè devo ricreare la stanza sei usciuto qui eh si è un po' una cacata vabbè stesso codice però poi siamo dentro mi sai devi prima uscire te poi facciamo join ok ok cambio la mappa vai allora metto jungle run jungle ruins che non lo so che cazzo non l'ho mai fatto ah boh vai vai ah mi sa che manco io l'ho fatta tipo a stega con questo gioco è proprio una merda mi hai detto così onestamente eh si dai non è ancora pronto dovrebbero mettere è una beta dovrebbero mettere a parte vabbè è una cazzata che per arrivare online devi fare tutta quella roba ma poi manco te lo dico esplicitamente è una scrittina io ci ho messo un po' per capire io lo stavo per quittare sai dopo due gare ho detto vabbè ok ci posso stare va bene così l'ho quitto e invece poi ho letto la scrittina e ti diceva blocchi l'online però dovrebbero mettere la velocità quello si l'effetto velocità ma più che altro se fai uscire un gioco così adesso ci gioca un botto di gente soprattutto gli stringer mi fanno grandissima velocità mi ricordo dei giochi che poi sono migliorati nel tempo ma facendo rivedere in beta che erano una merda la gente poi non ci ha più creduto non ci ha giocato certo però è free to play questo eh è free to play e tipo cross platform su una marea di piattaforme tipo spiega eh mi hanno detto sulla switch ci sta penso che ci sia anche su console ps cioè playstation e pc e xbox e manca il mobile però dato che i sviluppatori sono gameloft quelli che fanno asphalte se me lo mettono anche su mobile quindi è su tutto non è un giochino sì qualcuno delle macchine su mobile eh esatto è uno dei più più importanti esatto è solo loro eh quello dove caleati ci fai i test no per i telefoni mi sa di sì mi sa di sì 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 perché è bello pesante pure graficamente quindi in teoria loro li sanno fare i giochi di macchine niente spiega l'abilità sa un pepega mmm al primo è sempre salvo guardalo quanto è lontano col tuo polino ma ma sono una pippa in mane mmm bippa ok oh la scia di chi è questa? è che era la mia tu sei io sono terzo te sei? a quarto allora porca basta fino laggiù è arrivata no aaaaa karma no dai rigo però so quinto Cristo Dio ma poi mi sto boostando un botto niente sono possibili da raggiungere che simbolo è quello la del wifi? è qualcuno che ha la connessione bassa diceva allora lei va data il cazzo cazzo c'è una connessione niente comunque col boost uff no dai gazzu porco dici allora abbiamo fatto lo stesso tempo e sono arrivato quinto 698 698 guardalo è vero ci saranno i numeretti dopo si apro le bette ragazzi guarda se facciamo che arriva sopra no se facciamo il podio facciamo il podio facciamo il podio al stesso tempo sono arrivato quinto in base a cosa perché sono paverino sono discriminato si no vai bette aperte dive mancavo io mi ero dimenticato che dovevo gioinare vai vai connessione fallita al server no ci sono no non è vero devo rigioinare aspetta c'è anche su switch questo gioco dicono si devo uscire su switch non lo so se perché non mi trovo al party redimmi la password mi sai che siamo pieni ragazzi uno può fare spazio a tiziano perché è solo 8 mamma mia ma piccolino mario kart non era più dei 8 vai c'è spazio secondo me è qual è la password dy2rxk grazie comunque perché ha fatto spazio ragazzi certissimo ah zazzone pazzo no dy2rxk cambia pista è vero cambia pista cambia pista ok sì dovrebbe arrivare anche su switch però non lo so se già c'è disponibile come beta boh questo non ne ho non ho idea ciao zazzone bella questa del monte olimpo molto molto figa ma tu ci hai già shoppato? no anche perché non puoi shoppare perché ti resettano tutto nella beta cioè fuori dopo la beta era scritto all'inizio però volendo puoi spendere soldi? no ah ok no non è abbandonato tunic rega porco 2 madonna un giorno che non lo gioco non giochi più tunic l'hai abbandonato non ti piace data? va bene no è un capolavoro no no ci sta va bene se non ti piace bastava dirlo lo stavo seguendo da te piuttosto che farmi perdere tempo e seguire la tua stream per guardare tunic poi abbandonarlo boh sono veramente deluso non ho parole oh soffrimo non ho più di streamer di una volta ma i streamer di una volta non finiamo nei giochi effettivamente scusa ti è mai capitato di non finire un gioco? la voglia tunic ok poi a me piaceva tunic però l'ho fatto solo un giorno non l'ho più continuato e sarà solo quella la cosa poi mafia 3 mi ha fatto cacare ok non ho fatto qua questo si cioè no l'anno scorso mi sa che l'ho giocato aspetta a te è piaciuto che l'hai giocato no scusa c'è un messaggio con dps ok e no mafia 3 non l'ho mai giocato però ho giocato la remastered e l'ho finita e l'uno sì quella è bellissima secondo me io mi ricordo io mafia 2 su playstation 3 avevo giocato mi piaceva tantissimo ma per me mafia 1 remastered è più bello infatti ho rigiocato poi il 2 cioè scusa l'uno era remake poi il 2 l'hanno fatto remastered ma più bello l'uno remake del 2 remastered secondo me però l'ho finita nel periodo in cui io non esistevo vabbè quando è uscita eh sì no perché secondo Dario prima di riconoscere lui io non esistevo non erano stream ma noi lo so che ti stream da tipo 6-7 anni no non è uscito oggi lord sì da 6 anni però che lo ripeto continuamente un po' è diventato un meme eh lo so lo so io da 4 Pog ah io non ho mica capito come faccio per ora essere ancora primo prima ti dice che facevi forno attore ma che è successo ma che è successo che sarà quella cosa cosa mi sono visto tipo capopolto che era ah ok va bene grazie arden dai dai ve li amati dal cazzo lo sai che state sul discord stronzo madonna ho fatto la cazzata ho fatto recuperare salvo ho fatto veramente la cazzata sei primo ero primo guarda guarda di quanto poco io ero sono stato primo per tutto il tempo salvo non l'ho mai visto davanti a me primo per tutto il tempo all'ultima curva dico vabbè fammi fare la curva larga perché ci stanno i turbo però lui ha fatto la curva stretta e giustamente ha vinto è arrivato ultimo vabbè vabbè è una vittoria morale questa vabbè mollura grazie mille per il lost benvenuti a tutti dicevo scusami prima non ho sentito se hai risposto che facevi prima di twitch porno attore ok poi prima no sempre fatto fin da piccolo ah ok ho iniziato giovane mi piaceva no niente in verità ho finito cioè io ho iniziato a fare i video su youtube da quando stavo al liceo e quindi e ho finito ho finito di fare cioè ho finito il liceo e facevo i video su youtube e streamavo ogni tanto su youtube poi iniziai a fare le università e mi bannarono sulle streaming di youtube non potevo streamare perché? è perché ti ricordi lucia la mozzarella può darsi vabbè è una tizia con le tette ok e niente in un video non mi ricordo per quale cazzo di motivo misi una sua foto ma non era una non penso fosse una foto non censurata era una foto però e quindi dopo 2-3 anni da quando carichavo il video cioè era un video tipo del 2015 e nel 2018 mi bannarono le streaming e non potevo streamare e allora ho detto vabbè proviamo twitch quella cosa lì te ed eccoci qua e adesso potresti streamare volendo su youtube si 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 solo per 3 mesi non potevo streamare ah ok era uno strike di 3 mesi però era all'inizio dell'estate e tutto volevo streamare e ma chi è sta lucia? e ma vedi l'ho rotto il cazzo e lucia e la mitica non lo so se la vedo manco la riconosco però c'era un periodo in cui era diventata mezza famosa è famosa era boh una tizia che cazzo c'entra adesso? da da lucia la kobe che ci prova eh si si lei lei davi ne sapete è informatissimi vabbè mi stanno a sparare un po' super fnom vabbè regà ma comunque c'avete veramente la vita su questo gioco senti ma puoi spiegare perché molti dicono jtask and play mi spieghi questa cosa ma è una cosa che non so come è nata anni fa in verità tanto che non la sentivo penso penso che l'avessi detta qualcuno eh boh nel 2019 penso non so su quale gioco forse gta boh principalmente arrivavo ultimo quindi puoi capire il nome perché c'è fine come fa arrivare ultimo su gta scusami un attimo ma non me lo ricordo guarda secondo me era gta però boh non ne sono convintissimo chiedi se si ricorda il colore dei suoi occhi sicuramente il suo sguardo si sarà soffermato su quelli va bene ragazzi niente io sto usando tutti i boost possibili e non riesco a arrivare a nessuno ora c'ho salvo alle spalle e mi sta a mettere una paura ma sei primo sì ma tana paperino è una merda ma forse c'avete le macchine più potenti c'avete qualche cosa ho vinto salvo t'ho fatto il culo non quitto voglio capire che cos'è questa copia vedi che va al contrario perché ma perché te la modificano ti rompono la macchina con il coso viola no allora voglio capire perché sono più scarso degli altri perché noi abbiamo le mani mi ha battuto mulane di livello 1 no secondo me topolino è più forte degli altri adesso lo prendo ma vabbè a voglia se è più forte c'è tutti i turbo ma come se ho secondo perché sono secondo pensavo che ma com'è successa sta cosa ok c'è topolino ma dove è arrivato si non mi hai fatto il culo data gameplay va bene ragazzi domani c'è Mario Stryker ragazzi oh si mi hanno mandato un pacco a te non mi hanno mandato proprio un cazzo a me non intendo non mi manda più niente l'ultima volta che volevo giocare un gioco Arceus non ci ha giocato mi sa che sto preso male ma te l'avano mandato si allora può essere sai ho capito ma che devo fare scusa ma gliel'avevi chiesto si e però non ci hai giocato mai beh ho capito ma c'è no no ero mai male che ero partito quel periodo vabbè però lo potresti fare pure adesso è un gran gioco guarda il miglior gioco di pokemon della storia vabbè mi va mandando spettatori vabbè uscirà un dlc prima o poi forse no boh ci avete tutti i topolino fate schifo eh ma è sbroccato guadonna io mi sto schiantando 18 volte e basta ma te l'hai preso topolino? si l'ho preso hai visto che fa? si fa i bocchini a me nooo beh sicuramente è anche quello eh cioè non propriamente magari è un po' l'opposto niente regà scherzavo scherzo no 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 fammi riprendere di due punti come c'è s quarto che mi sono schiantato 18 volte pure l'ha detto no no ha preso il campanile faccia fuori io fuori io uguale a me comunque mi è mai uscito il busto di topolino te lo dico lo devi sbloccare la super abilità è da sbloccare ma che cazzo stai a dire? eh sì mi sa con i livelli so prendere sto cazzo di teleport porto 2 sembro doc che cazzo c'entra il teleport porto 2 entra sempre grande giove no me l'ha mandato a me maledetto non ti ho preso ma anche a me qualcuno mi ha preso dai dai guarda dal cozzo oh dai ma perché se vado sull'erba andate più veloci dipende se stiamo usando il turbo tipo ah il turbo sull'erba va meglio tu cadai no vabbè il teletrasporto turbo tipo va bene ma tutti topolino siamo ammazza c'è il mio mod che è quello che ha vinto cazzo sta spammando che non ha mai giocato un gioco di corso in vita sua è un'abilità inata come si sblocca l'abilità di topolino devi devi uscire mi sa nei personaggi devi potenziarlo ma devi vedere se hai potenziamenti cioè ti servono degli oggetti per potenziare il personaggio ma sei serio eh si cioè oggetti che sblocchi giocando te lo spiegano eh ma sicuramente se hai fatto il tutorial puoi farlo dovresti avere gli oggetti che ho io eh no ah mi sa che lo sai di tutti per paperino eh vabbè allora niente può essere aspetta posso mettere posso mettere ciccio ciccio ho messo ciccio ciccio ma ha dato un po' di più di un'accelerazione buono oh bella come hai fatto a modificare il personaggio da qua scusami ripremi oddio chi lo sapeva two stars needed to unlock this skill devo fare due stelle come faccio a fare due stelle questa cosa non l'ho mica capita io eh allora non la posso sbloccare lo vedi mortacci di topolino oh forse devi giocare un po' di più io non mi son fermato a quando ho sbloccato l'online ah però sai cosa ho fatto ho fatto ho fatto la mappa la modalità quella che sta in alto tipo modalità avventura la copita sarà aspetta cambio pista vai vai sono diventato un super bimbo della disney esatto esatto oggi si oggi si chi? cosa? aspetta aspettate rica che mi si è bloccato il cazzo è un problema quando si blocca e si incastra fai danni sotto la sedia poi comunque non vedo jim hawkins come pilota giocabile chi è jim hawkins? tututu tutubi no no stavo canticchiando la musichetta che sentivo ah pensavo jim hawkins no vabbè chi è jim hawkins? che tacchino quello di st che cos'è st? stranger things ah vuoi essere come hai detto jim hawkins hawkins è la città è il padre di dopo lì non penso no ho failato il turbo questo sia la cosa più facile da fare l'ho sbagliato ma non sono stato il solo ho visto qualcun altro che lo sbagliava è il turbo porco dici eh quello è culo ok e mi avete rotto di coglioni no dai mi hanno messo il cazzo di coso mi hanno messo lo scudo non me l'ha preso si acciaga bene regà dici è un miracolo si no ho fatto il teleport non si sa come sono diventato primo giuro madonna quanto cazzo ho stato a guardare cazzo non ho no mi sono incastrato niente ho perso vai da tutto vai da tutto eh dai 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 ah la senti la risatina di di topolino sono arrivato adesso dai cazzo clap clap giada grazie per il prime per il resab è tornato nella flotta spaziale per il quattordesimo mese grazie mille è andato bene stavolta va bene insur a supermanic sono venuto orecchie da topolino un sacco di effetti particellari quindi alla fine non lo porterai si lo porto lo faccio domani Mario Strieger quindi non lo fai non ti piacciono i giochi di nintendo ah è molto in realtà vabbè no ci sta ma hai giocato la beta l'alpha no zero andrò proprio tutto così è carina non so se la vista so forti la rifaccio c'hai una marea di tutorial all'inizio per i comandi che vale pure la madonna santa però la sono utili ma il punto è che le devi cioè dovresti giocarle più volte per ricordarti le cose perché troppe combo di roba che non ti puoi ricordare cioè qualcosa si ma tutte insieme no fa veramente tantine no più che altro la storia di è nata una storia col fazone ok cioè praticamente gli è arrivata così che io volevo essere cocciato su lol solo che io ho detto ma io lol non non me lo inculo mai cioè non me lo sono mai culato è come un altro gioco è come Mario Strieger e tu si e quindi ti devi cocciare su Mario Strieger il problema è che lui attacca la live 21 io la live 21 non ci sto eh sì vabbè ma dipende magari vi ho organizzato un giorno cioè qualche volta attacca prima se c'è qualcosa cioè tipo che ne so oggi attacca alle 7.30 per guardare con mail esatto è una vaffanculo sta cazzo che giosta ma questo qua di sottofondo è Pippo cosa? è una canzone di Topolino ah non lo so l'ho mutata prima perché mi stava dando un fastidio erano tutte non c'erano più musichette della Disney non lo so era partita tutta una musica elettronica infinita uguale il loop su me a me sarà bugato quindi mi sono messo Spotify con le canzone della Disney fog oh c'ho girato davanti eh ma sono ultimo ok ottavo e su sesto dai raga ma non mi esce manco un teleport e niente uff ma non mi esce si schianta addosso mi è andato fuori mi è andato fuori si ho visto si si è il Topolino malvagio dai mi avete fregato il boost ma poi sempre dai guardalo uff ho fatto un recuperone quanto sei arrivato secondo ah com'è là sotto fa freddo sei là mi senti tutto a posto qui su si si laggiù come tutti Topolino guarda tutti Topolino è pure te non è che no non ho fatto piacere di questo gioco toglia sicuramente sta musica di merda vero ma dipende ci sono dei momenti che sono carini ma altri allora capitano dei mezzi dei mix della Disney ma poi capitano delle cose veramente no la cosa la cosa buona di questo gioco è che poi toglie la musica perché su Super Mario Kart mica lo puoi fa ah devi mutare tutto il gioco dici eh si dico Cristo non si può togliere quella musichetta maledetta si ho capito ho capito questa qua è una demo la potete prendere su Steam demo beta alfa no Topolino questa musica comunque un po' strano e io però perché ho la musichetta di Spotify è crashato il gioco raga infatti non sta partendo te che sta partendo no vedo il filmato di Topolino sulla macchina che continua in loop vero eh pur a me prima era successo quando stavo giocando prima di te eh si ah no noi siamo dentro ci sai te hai perché è cancellato il gazzo stiamo uscendo boh ah forse allora quindi si metteva tanto a caricare perché stava crashando lui almeno 45 minuti al zoomer alla presentazione ah fame adesso fa un testa a testa con salvo che culo che culo però io sono capitati tipo boh questo gioco è la riprova che i soldi non fanno no la felicità non fanno i giochi buoni cioè la Disney ce l'avrà i soldi per pagare un five head che farsi i giochi no sicuramente beh ma ti ho detto comunque Asphalt cioè nel senso penso che sia il gioco di macchine mobile più famoso mai creato no quello è Formula 1 no su mobile ah mobile però Formula 1 semmai non è famoso per il gioco cioè capito è famoso per Formula 1 impossibile raggiungere sto tizio ah ma sei te sono io sono il terzo ahhh godo cioè ad esempio basta vedere Pokémon effettivamente pure non è che i soldi non ci siano e niente audio completamente muto vabbè ma Salvo ha fatto 1.42 eh sì ma ha dato 10 secondi è vero beh pure io 9 eh vabbè io non ci ho mai giocato Asphalt e quindi Franco Banco come la mettiamo no vabbè non è che ho detto che è il gioco più popolare di tu cioè non è che è il gioco che tutti devono giocare però ne esistono tipo 9 mi sa tipo Asphalt 9 Asphalt 10 ci staranno ci staranno ci sono tanti no no Manu che succe che succe sì con J-Touch Federica che culo come è identico come è che per ok 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 adesso soffriato che dai al cane non tocco mangiate eh 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 che devo mangiarci puo per cane Fono quindi vabbè quello che vuoi fare tu assaggia scusa non lo mangi il riso del cane mi sembra onesto io mi mangio tutto non non credo sì perché sono sempre a cagare vabbè chi è stato mangiarci puo per cane niente ho me sto impegnando come uno stronzo e sto quinto cos'è che c'è il riso uguale sì beh allora io ti dico una volta ho mangiato una scatoletta per gatti intera e direi perché perché eh perché il procumo sapeva di tonno e quindi ho detto vabbè sarà buono sarà tonno l'ho mangiata tutta ma c'avevo tipo 13-14 anni buonissima lo confermo tutt'oggi era buonissima però per una settimana sono stato male però era veramente buona ma se vuoi puoi provare mi ricordo pure la marca come era fatta la scatoletta ma Fede ma non è lo stesso riso vedi che Mary impazzisce il gioco è gratis poi sarà informati cerca fai una ricerca e poi faccio un'inchiesta tipo Erin Brockovich forte come la verità va bene della shiba no non mi ricordo come si chiamava ragazzi era un cosetto quadrato tipo si è un'unica pista dove non riesco dove riesco ad un arrivare ultimo sto notando che stiamo rifacendo sempre la stessa in lupo va bene ma l'abbiamo fatta quella dei pirati potremmo fare quella dei pirati va bene facciamo quella dei pirati dai si ragazzi dopo seguiamo Summer Cazzi con Dario dio madonna non so se c'è pure Nani ma penso che si dai mammi Twitch il mio gioco preferito dopo Dada sai che stiamo si stanno sviluppando un gioco della Tomodachi si l'ho giocato no quello di macchine ah me la ricordo vagamente perché mi ricordo vagamente questa cosa perché non è vera no c'era un gioco c'era un gioco oltre quello c'era qualcuno che stava facendo un gioco di macchine magari non eravate voi mi assicuro qualcuno su Twitch che sta facendo un gioco di macchinine con Twitch cioè con i personaggini di Twitch tipo c'è un c'anguilla chi? c'è un c'anguilla eh non conosco eh uno ma è vero? no non lo so può darsi io mi ricordo un gioco per questo ho detto sì io mi ricordo qualcuno che sta facendo un giochino sarà sicuramente uno mio toller può essere quanto stai? male ottimo ma c'avete sempre quel cazzo del boost eh o a qualcuno tocca pure darlo non riesco a raggiungervi eh sono arrivato quarto niente impossibile almeno non arrivo ultimo regà perché quanti siamo scusa ah ok ben ultimo allora race settings change qual è voli fa quella di pirata è l'ultima che ci manca vai la conferenza è alle 20 ragazzi lo scrivo nel titolo scusate ho messo 19 e 30 era solo per dire perché dovevamo staccare la stream alle 20 conferenza vabbè vabbè metta aperte Matteo Pagliella conosco Matteo Pagliella dovrebbe essere qualcuno uno streamer no tiktoker tiktoker ma te che fa non penso comunque no niente di che no non ti manca invece mi sono visto il video con franchino dove ti fa insultare perché mangi il sushi esatto tra l'altro devi venire con il video faccia e pepe buona si non mi ricordo più come si fa quindi probabilmente mi picchiara davvero stavolta e io la trovo più complessa da fare sai rispetto 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 tipo alla carbonara o la madriciana non so perché oh finalmente uno che lo ammette ah perché ti dicono di no certo dicono la carbonara è il piatto più buono del mondo vaffanculo carbogrema carbogrema no aspetta 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 io ho detto più difficile ho detto più buono per me il più buono è la carbonara allora la mia classifica è carbonara cacio e pepe a madriciana hai detto cacio e pepe secondo soltanto perché ce sto io no 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 te lo assicuro te lo assicuro mi piace veramente tanto perché la madriciana mi sa troppo di pasta cioè pasta al pomodoro normale per carità è diversa però ci assomiglia capito cioè ci sta il pomodoro psicologicamente ovviamente eh invece la carbonara o la cacio e pepe non so comunque mi piacciono di più ma la madriciana è più complessa in realtà si però ci bolle ha voglia devi fare tutto il sughetto però non lo so beh è perdito un culo ma mentalmente ho sempre trovato più complessa la e di madonna abbiamo perso il traguardo o cosa che vuol dire dove ho perso il traguardo non lo so io è il primo è dall'altro lato ho messo una vista strana eh ma che cazzo tipo di inserimento è sto coso io è salvo non vedevo il nome dai chi è sto stronzo sesso sirio porco dici ti togli quanto godo sono primo salvo a negrito all'ultimo secondo dai porco dici cazzo sei senti ma perché gli è passato in mezzo in che senso in mezzo il boomerang c'è lo scudo magari c'è lo scudo pari tutto c'è il cerchietto quello intorno rosso rosso verde tipo mettere aperte che livello sono livello base no qualche ah hai detto che non l'hai messo nessun potenziamento sei riuscito a mettere no zero infatti sto a giocare senza ma io regà sto convinto che sia per quello che perdo può essere beh guarda che se vuoi puoi modificare però eh puoi mettere puoi mettere che abbiamo tutti che abbiamo tutti la come si chiama tutti livello 1 no regà non è copium sì ragazzi poi si si sposa lo so lo so d'altro fa ridere il fatto che gli abbia scritto in privato proprio nel giorno in cui è uscito la dichiarazione per il matrimonio ce l'hai scritto o dici a caso no a caso per dire se voleva fare una live con me e comunque in tutto ciò io attenderò l'1v1 su switch sports eh eh ma mi fanno mali i muscoli sono stato in palestra sono malissimo sì pure io vado in palestra ormai che scusa due o tre settimane vado che scusa c'hai quale scusa la scusa dalla palestra non ce ne andavo da quattro anni io da nove non facevo attività fisica da nove da tre settimane eh allora meglio di me che frate hai detto scusa due giorni fa ci sono stato vabbè tra tre settimane stai una bomba aiaia aiaiai chissà quegli stronzi lì davanti zugu zugu bella jimmy yy ah cazzo ho dovuto tagliare vedi che sono pepega che palle qua io sto proprio a sbagliare tutto comunque ma chissà se tu stronzi davanti a me a che posizione stai non te lo dico sarei primo tipo no se ce l'ho davanti a me ah effettivamente magari sei dietro di me sto arrivato a terzo oh tono 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 sphinx grazie mille per il prime vento la metà del mio tempo salvo da due sette due dodici no ti ti è arrivato sesto io sì questa l'ho fatto cacare eh devo starnutire mi è venuto fuori un acuto ma poi non ho capito mi vuoi sfidare che a bowling no ma lascia perdere non c'è storia c'è storia perché eh perché io so c'ho la tecnica per bowling la tecnica quant'è il tuo record di strike di fila duecentosessanta quel è il punteggio ah sì sei nove l'ho fatti prima un'ora fa eh 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 e mo non flexi la tecnica hm zugu zugu lavit grazie per il prime benvenuto nella flotta spaziale grazie mille allora mettiamo tier 1 così sucate tutti vai vai mettiti tier 1 tutto quanti turbanti in testa c'hai io eh per aver fatto nove strike eh sì ah in verità stavo a fare a caso però sono sciti fuori ma come a caso beh no con un'idea però nel senso stavo stavamo giocando stavo facendo un 1v1 contro deluxe c'era presente deluxe sì eh 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 niente eh sono sciti fuori tutti i strike nove strike al decimo tiro eh niente aveva un po' insultato perché abbiamo fatto abbiamo fatto tipo un torneo diciamo abbiamo fatto 1v1 su tutti gli sport e abbiamo detto facciamo dato che sono 6 sport facciamo tutti e 6 sport e vediamo se arriviamo uno che è in vantaggio se arriviamo pari 3 a 3 facciamo lo spareggio su bowling siamo arrivati pari 3 a 3 e allora abbiamo fatto lo spareggio e allo spareggio non si sa che è successo ho fatto 9 strike di fila anche perché invece l'ultimo sport che avevamo fatto nel calcolo dei 6 era proprio il bowling e io avevo vinto di tipo 5 punti sopra perché lui stava 3 a 2 per lui e e invece poi lo spareggio è 9 di fila poi però ho fatto due ho fatto poi spare e un tiro brutto no immagino si è successo qualcosa di molto malvagio mannaggia la madosca madonna si ti devi togliere dalle palle ok vedi che vedi che a tier 1 io c'ho la faccia a starvi dietro vedi che non sto così scazzolo quanto stai? sto a secondo sei secondo stai qua davanti a me tocca lanciate una bomba no che cazzo è quella roba che fa ogni posto? è il whole ride la ma lo fa strano però non t'ho preso dai non ci sto credendo quanto sei arrivato? ok ti ho fatto fuori io lo sai si mi sento un po' malvagio ti ho fatto? ti ho fatto? ti ho fatto? ti ho fatto? ti ho fatto ok ti ho fatto? ti ho fatto? ti ho fatto? o salvo? vabbè è possibile da riprendere irrecuperabile dai allora ti sfido la prossima volta se organizziamo e fanno bowling va bene? va bene va bene approvo vuoi fare solo bowling o vuoi fare anche gli altri sport? va bene tutto solo bowling solo bowling sono specializzato si ho il braccio fatto solo per quello va bene ok accetto questa sfida ci dobbiamo organizzare quando ti torna il braccio funzionante dopo la palestra non tanto non vado in palestra ci sono andato una volta e mi sono distrutto ma pure hai mentito quindi? no ci sono andato l'ultima volta l'altro giorno mi stai mentendo va bene pensavo ci fosse un rapporto di fiducia tra noi che ci dicessimo tutto ma c'è però ci sono andato l'altro giorno ho fatto live vai a vedere non lo sto spessando ah è vero la notifica live dalla palestra è vero è vero è vero hai ragione hai le prove dai ci posso stare va bene ciao data buona conferenza anche a voi ciao 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 a tutti i daders ciao 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 gethazzer ciao ok allora vabbè il fazone sta là sopra abbiamo abbiamo come si chiama abbiamo già la conferenza vero? da poter guardare sì mi pare è uscito un trailer goloso ma tanto non lo guardo mai in stream summer game fest cioè lo guarderemo dopo summer game fest summer game fest devo pagare le loss? no era le win l'ho già pagato è un lavoro spaziale con il coding bootcamp aula baccate in termini imparerai a scrivere codice con un metodo di insegnamento strutturale no non è ok tra 22 minuti inizia non c'è in italiano allora al massimo ci sta sottotitolata in italiano ragazzi il trailer di black adam quello è uscito ieri vediamo su twitter se c'è hai cambiato tu la categoria giacomi volevo mettere special events hammer game fest eccolo eccolo è questo questo qua ok e vabbè quindi mi state dicendo che hanno riccato cose vero mi sta radicando riccato cose giusto prima l'ho letto cosa hanno riccato eh prima l'ho letto cosa hanno riccato però non lo ridite non me la ricordo daniele come si chiama l'estensione dei prezzi su amazon si chiama si chiama si chiama si chiama si chiama si chiama game awards ci sto manu no ci sto siamo in attesa eh tra tra sei minuti inizia il pre show mi sembra che mi ricordo bene in teoria ma quindi secondo voi che fanno vedere breve gn no 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 è quella ufficiale è quella ufficiale secondo voi che cosa ci mettono dentro e a cosa serve questa estensione per vedere per vedere i cosi si usce il fazone tra poco sicuramente per vedere l'andamento dei prezzi delle cose avatar magari io vorrei fare delle bet ragazzi bet su qualcosa su cosa possiamo fare le bet eh bet su avatar io mezzo ve l'appoggio io faccio le bet su avatar dai fanno vedere avatar ah fammo così fanno vedere due punti avatar god of war avatar e god of war nessuno dei due dai bet così ragazzi ok avatar god of war avatar e god of war nessuno dei due dai anche harry potter eh come lo famo fanno avatar slash harry potter allora fanno vedere allora facciamo così avatar flash hogwarts legacy god of war slash spider man due fanno vedere eh no spider man due entrambe le entrambi nessuno ok entrambi ovviamente inteso le due opzioni cioè se si vede o god of war o spider man quell'opzione vince se si vede o avatar o god of war legacy quell'opzione vince se si vedono avatar e spider man vincono vince l'opzione di entrambe ok quindi se scommettete su uno è complicato sì però troppo complicato e dai su che starà fai t-rex e provateci e come lo volete allora rifamo allora non mi frega un cazzo famo niente hogwarts legacy avatar hogwarts legacy quante opzioni quante opzioni si possono allora avatar god of war eeeh hogwarts legacy famo così famo così famo così guarda ve lo faccio così spider man 2 e li faccio così ragazzi allora ditemi un po' di giochi facciamo così avatar god of war hogwarts legacy spider man 2 poi qualche altro di quelli grossi grossi attesi gta 6 madonna eeeh the last of us e poi farei li fanno vedere tutti e vediamo allora abbiamo messo 6 giochi almeno 3 ne vediamo solo uno nessuno dai così ragazzi cioè capito ah va voi potete scommettere sui giochi singoli o o su capito cioè vai ora le bet sono aperte vai ah è carina questa bet 10 opzioni 10 opzioni io per il meme su gta li butto eh però ricordate cioè se voi bettate su gta e fanno vedere gta e god of war gta non vince eh capito eh l'opzione è solo una che può vincere quindi dovete scegliere eh la sto base o qualsiasi cosa eh beh capito come dovete scommettere si quando voi rifacciamo la rinuncia sul genio della Disney a voglia salvo sono state delle partite che veramente stiamo là uno a uno testa a testa molto carino oggi presentano gta 6 vai in tiboltina tutto nudo ok ok vado in stream tutto nudo con la videocamera qua che inquadra davanti e vediamo la reazione della gente va bene magari massimo con le mutande dipende quanto freddo fa capiamo non vogliamo farci arrestare manca opzione ne fanno vedere due cazzo perché devo mettere ne vediamo almeno almeno devo mettere opzione ne vediamo almeno almeno due ne fanno vedere due così non vince nessuno che palle che palle che palle rimborsa i punti allora fanno vedere avatar allora ok poi gta 6 the last of us li vediamo tutti ne vediamo almeno tre e vediamo meno di tre nessuno ok così avatar god of war guarda se le ragazzi spattermando gta 6 the last of us li vediamo tutti almeno tre no facciamo almeno tre meno di tre basta ultima non si cambia più 20 minuti di scommesse fino alla fine vai aspettate ricordate vince solo un'opzione eh vince solo un'opzione ragazzi tra queste ok la guardo col fazzone si si roxas appena appena attacca la stream si appena attacca la stream si li scrivo mmm beh tanto vabbè sta qua non è che tu tu ci sarà the rock si ci sarà the rock come come sta better di sadiscam perchè di sadiscam meno di tre è solo due però perchè se ne fanno vedere no no meno di tre è due no è due e uno eh se ne fanno vedere uno vince il gioco che fanno vedere eh sti cazzi e dai su tanto ne faranno vedere più dei due secondo me me ne vediamo tre eh in verità non lo so eh se me vediamo solo se me vediamo ve lo dico eh per me ne vediamo due ne vediamo avatar e Hogwarts legacy io punto sabato Hogwarts legacy un gioco delle bet è già uscito il trailer vabbè non lo so non voglio sapere un cazzo ragazzi non me ne frega niente le leak e no vote of war ma su me no però ci spero eh su me la cosa conveniente è bettare su ne vediamo almeno tre tipo cioè io non posso bettare perché ho partito tutto la scorsa volta non c'hai manco dieci punti zocca dai manco dieci punticini mi stai a dire devo fare eccessivo GTA 5 sicuro cazzo era da fare la bet GTA 5 ne hai 30 scommettili tutti scommettili tutti su qualcosa allora comunque state bettando 3% su avatar 2% su god of war 0% su Hogwarts legacy 0 su spider man 0 su gta 7 su the last of us 0 su li vediamo tutti e sono 210 punti se li vediamo tutti 69 su ne vediamo almeno tre 11 su ne vediamo meno tre nessuno 8 pazza 8 è tanto comunque su nessuno se non vuoi nessuno no per me io considero 3 almeno 3 almeno 3 boh eh i papabili su me so avatar god of war e Hogwarts legacy poi gli altri dubito dubito un pochettino sinceramente sì sì rox sto risposto la guardo col fazzone la guardo col fazzone la guardo col fazzone appena appena arriva mmm che ci faccio con 800 con 480 000 punti nessuno ne ha così tanti no c'è gente che ne ha molti di più commettine fidati di me Legos commetti 250 50 mila punti su ne vediamo almeno 3 steffi da se non vince questa cosa Legos io ti regalo 3 sub su 3 canali dove vuoi te ok dai a me sembra una cioè zugu zugu eh sono tornato grazie mille per il prime ben tornato nella flotta per il nono mese grazie mille test 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 palle che quando mettere i sottotitoli mi fanno impazzire perché mi possono mettere sotto oh tilt se c'è qualcosa su una course legacy eh boh io ci spero io ci spero la betta è aperta si che brutta countdown si un po' boh le bette sono aperte le bette sono aperte sentiamo un po' di musichetta spotify in altesa vado a prendermi la ah no l'acqua ce l'ho qua e se arrivasse un miliardo di punti ci dovresti arrivare lo sfondo era capricciante beh ma è quello loro graficamente loro tipo mi pare un po' eccessivo antonics dirò si mi pare un po' eccessivo comunque sto mangiando della golosa pasta pasta fredda con pomodorini tonno e mozzarella siamo the last of us 3 no io penso il multiplayer io vorrei l'hai fatto legots bravo ti basta quello che sto mangiando si manu dove l'è pronostico sopra la chat partito fasone e quando vuole tanto sto qua sotto già gliel'ho scritto tutututututu paraparaparapampam questa canzone dov'era nel film di top gun stasera mangia un bel pesciolone ah ah puloso pesciolone poi anche il mio mi distacco comunque posso dire che mi sono veramente divertito nella stream di oggi beh per domani con the boys alle 6 è vero non l'avevo detto l'ho messo nella programmazione alle 6 stiamo alle 6 proviamo stasettimana alle 6 vediamo se la prossima cambiamo domattina proviamo Mario Stryker e alle 6 famo famo non ci stai manu? a coglione spara te ti spari tu fazzo? no come no? le distruggo ho deciso di annientarti su cosa mi annienti? ti ho invitato la squad stream su che magnenti? sul bucio del culo bello mi piace quel gioco sto a 20 secondi dentro con la live dire ma come 20 secondi? ma è in... a me si è appena bloc... ah ma è crashata la live di questi io sto guardando quello ufficiale dei game awards eh gli è appena crashata no mo gli è ripartita no gli è ricrasciata e quanti minuti stai? eh non lo so è crashata sì ma io sto a 6 e 6 mo gli è crasha non è stato da crashare 3 ah tu stai guardando da Twitch sì è più questa è venuta a YouTube sì e dimmi quanto è il tempo se sei più veloce te vengo da te te vengo su no sì è proprio a rifresciare vediamo un po' ok è ripartita forza eh so 5 27 26 madonna apro subito Twitch come si chiama game awards game awards sì game awards o game awards no è uguale scrivi game awards e no ve lo mette l'url fazzò si chiama the game awards 5 7 5 6 5 4 mi hai racchettato con la pizza alle 19 inizia alle 20 è a like ditti tu che sei possessore grande amante di gatti cioè il mio gatto che si sta leccando addosso da due ore è normale sì si si sta pulendo sì si pulisce ma poi quando quando si leccano hanno hanno delle delle ghiandole sulla lingua ok che rilasciano diciamo degli ormoni quindi quando tipo leccano te è per dire tu sei mio è per marchiarti è come se ti facessero la pipì addosso ah non è che ti farà però capito è un è un per i gatti poi è un profumo legato dell'invita sì ma vabbè perché sì cioè l'ho visto però è letteralmente due ore che lo sta facendo non è che ha toccato qualcosa magari si sta pulendo può essere più che altro le zampe si sta pulendo poi addosso vabbè forse la sabbietta nuova magari non gli piace è la lettiera ma può essere quindi fa schifo magari sei impolverata tu tu no so scendi ma i due gatti come sono sono pazzi no in verità è una razza molto calma il mio gatto anche il mio è una razza molto calma ma il mio gatto è pazzo no ma a me la tua non è molto calma come no no è bella allegra ma che in te dire dovrebbero essere morti sti gatti invece è il cazzo è un matto ma chi te l'ha detto tutti o a me se l'avessi chiesto avrei detto che è bello attivo i ragdoll eh vabbè si sta dimostrando bello attivo vabbè è attivo sto coglione sì oggi oggi sì nuovi giochini e tu gli dai che cosa hai preso boom e carta busta di plastica della carta igienica ambientata e rotolone di quello di plast di no di castone della carta igienica e perché fanno rumore no quello perché rotola e lo insegue all'infinito esatto esatto uguale a voi gli piace tantissimo il rotolo della carta igienica ragdoll è una razza di gatto particolarmente affettuosa e docile è predisposto al contatto fisico soprattutto con i suoi gari e predilige una vita tranquilla senza rumori o confusione è un perfetto gatto d'appartamento e può convivere con altri gatti o cani a fatto che non siano eccessivamente espansivi 025 ma secondo te pazzone che fanno vedere oggi di goloso pitti onestamente lo sai il mio pensiero su queste cose non ne ho la più pallida idea giaco grazie di 47 io voglio avatar non ne so un cazzo non ho visto neanche le software house che ci sono tutte io ogni volta ogni volta mi codo queste cose proprio completamente alla cieca non sto lì a vedere oddio c'è ubisoft oddio c'è questo ah no ma anche io ho guardato però so che ci sono tutte ho sperato non so manco quanto dura ma penso verrà pure un tot ho detto un'ora e mezza massimo due a seconda di come gestiscono la parte di evento fisica sì che magari c'è fanno la canzone stai come qua eh sì dipende perché poi si mettono là a parlare hanno detto solo quello però almeno un'ora e mezza quindi oh gass non so se poi devo aggiornare avevo sentito zano ma non so se stai svegliato sì eeeh l'ufficioso mi sa non lo so ti te lo prima l'aveva detto pego il 3 mmm bello poi ti pego il 3 voglia però alle 20 corario del cazzo beh pensa che in america penso lo stiamo facendo che è tipo all'ora di pranzo sì mi sa che è l'una pure prima mi sa mi sa che sto tipo perché c'era scritto un orario 11 es tipo so che cazzo l'orario è è una merda ma per cosa vabbè se no qua se no qui in EU erano i 4 di mattina secondo me è perché provano a prendere un orario che è bene o male più a tutti è tra virgolette giorno per tutti anche i xbox lo fanno domenica alle 7 di sera cosa fanno alle 7 di sera xbox microsoft vabbè che si in cura penso non ho mai visto una cosa ubisoft e microsoft ho detto oddio che figo dato che cazzo sa vabbè in realtà collegato con pc in realtà ci potrebbe essere qualcosa ma hai visto quel gioco 15 14 15 14 ok che dicevi hai visto quel gioco che hanno fatto vedere allo state of play quello tipo dead space bellissimo quello mario streger l'hai preso si ce l'ho già nella switch dopo se gioca hanno inviato il pacco si ma hanno inviato un bozzone con dentro una palla ma che cazzo ce l'ho fatto ma vai un bozzone così a scatola così è vero è vero un scatolone enorme oh ciao io l'ho no no non gli piacciono le scatole c'ha paura delle scatole il gatto ah penso si sia appena addormentato il micio si è leccato troppo l'audio va bene in stream ragazzi due ore dura ma che è tutto quel peletto per terra oh non ci voglio buttare per terra mi sono macchiato con l'olio fazzo mi ha pushato la sua casa sotto torre mi ha pushato sotto torre mi ha fatto cascare la forchetta sulla maglietta feels bad ah domani c'è pure le guerre è vero mezzo poggers da c'è sto great stuff Geoffrey o come cazzo te chiami questo se non c'è giocchi ditti te ne abusi Street Fighter lo voglio giocare lo voglio giocare ho già sfidato col pesco hai sfidato col pesco l'ho già sfidata ma mi hanno detto che devi cioè prima ho giocato con Data mi hanno detto che t'hanno detto che lo devi cociare su LOL ma lui invece vuole giocare a Mario Stryker si domani gioco con Data a Mario Stryker forse non ho capito se c'è la sera ah no è vero esatto mi ha detto sta cosa perché se volessi ma il pomeriggio mi sa che pian volo atomico si è al volo sulla navicella dei DT2 e il pomeriggio sto con una bava a bocca anche se è l'orario meglio per me ma perché il gatto il pomeriggio mi dorme mi dorme mi dorme tutto il pomeriggio guarda quanto cazzo ma che capelli c'ha questo i capelli del K non il K frenesi il K quello giapponese ma il K giapponese è tipo quella rana strana non presenta dai quel coso verde il pepe no non è il pepe è il K scrivi K su google tra i calzini non vedi i calzini ma che stai dicendo i calzini della K dicevo no che calzini della K il K è tipo la mascotte giapponese ah ok che è una tartaruga non è una rana vabbè è uguale è un coglione quasi ok mi è modus stream con Dario Moccia subito eh la tartaruga baffanculo va ma vabbè ma com'è il demone è deficiente ma che demone eh per ragazzo dei set per demone fare un tronco così va bene l'audio oh vuoi premiera che è questo guerrilla no è stato addesivo Fox è della Disney ah si Killzone nuovo oddio oddio ma è Killzone davvero ma magari quello se è il logo di guerrilla può essere come star Wars no non è star Wars no oh costo arza mi hai dottito i coglioni poi in Santo DT2 eh fanno così a posto boh ma che cazzo ma più che altro c'era scritto Fox quindi deve essere basato su un film dove sono saliti i due che è Alien allora eh bravo Alien è della Fox bravissimo oh cazzo Alien Morbius the game quelle sole è Alien vedi c'è l'uomo lì bravo Morb ma te l'hai visto Morbius no no ho solo il meme e questo dronco che schifo sembra Dead Space eh sì è un grande Alien ti hai giocato te Alien no l'ho sempre voluto giocare no il Joker è bellissimo come si chiama Alien Isolation Alien Isolation è insano ma guarda quanti Alien che schifo ma poi era uscito un multiplayer di Alien ultimamente è vero sì mi sa che qualcosina era uscito eh era uscito tipo un copo strano sì 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 esatto esatto pure io ricordo sta cosa I don't know what I saw in there I don't know what I saw you but it's Morb in time tan 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 Morb eccolo io non starei così tranquillo ah era di Predator non Alien ah ok quello che è uscito ultimamente eh sì ma perché sono collegati come franchise eh sì Zugu Zugu Aliens bello sembra il logo del film proprio Dark Deschards Forthbarf carino ah ecco ah è alla 2023 alla cosa alla Killzone quello della PSP quello com'è visualisometrica come cazzo si chiama visualisometrica si chiama sì 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 Civa grazie mille per il Prime benvenuto nella flotta spaziale per il settimo mese Marrush grazie per il Prime benvenuto nella flotta spaziale grazie mille l'audio va bene sì via ah ecco Callisto Protocol è quello che dicevi idea ma ancora è basso il volume poi salta un alto pelo ma però l'ho un po' modificato gore premiere dici un pelo ma perché poi magari dipende dai trailer capito eh sì certi fanno ma ce l'ho ben te sento più di un po' eh sì esatto pure io Krafton eh ma non è lo stesso video che hanno rilasciato qualche giorno fa no no non c'era non mi ricordavo la cosa dietro scritto beep mi sarei ricordato forse sicuro faccio oddio mi pare lo stesso mi è lo stesso eh no forse è modificato no ok è uguale questo è questo modo di cose identiche evidentemente ricevano a vedere il trailer e poi il gameplay si può essere questa cosa è uguale questo questo huge che poi mi hanno detto è fatto da uno dei creatori del primo della Dead Space eh sì 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 questo è questo clamoroso sì secondo me bella bella sta cosa questo mi è proprio incitato non vedo l'ora che esce questo dura un'ora e mezza due l'evento questo potrebbe essere veramente bello bello ovviamente la grafica come ho detto quello lo state of play non sarà mai questa sì praticamente non ha senso ma che è ok già così c'è posto no magari è magari è fatto di parlare dell'asso passo che parte tipo quel filmato in mezzo al gameplay quelle cose lì che schifo palesemente ehi come cazzo si chiama i necromorphi palesemente loro così si chiamano che schifo è bello splattere porca voglia e mo quindi dovrebbero far vedere il gameplay e faccio vedeva ah non c'è 2 dicembre ah bello bello sei panza questo che scarpe già ah è la luce che gli fa sembra non ho capito cioè scarpe dei popolini in kingdom sì sembra con la punta bianca invece mi sa che è la luce no aspetta no è proprio la punta bianca ah è proprio così sì sì non sei voce è scarpe di sora diocato ma quando fanno queste cose che arrivano grazie a voi ma dammi il gioco dimmi di che parla eh grazie ma che penso sia parte tipo del hai capito tipo degli accordi che fanno devono dare spazio allo sviluppatore ma sì nel tuo dubbio le cadina di cure via esatto ma non è un sequel è un gioco nuovo è il gioco dei sette lei è un capitano grazie grazie sai che stasera se tromba con qua vede la ah Jacob oh è un per cazzo un minuto c'è per parlare 45 secondi ringraziamo ma che ringrazio ci mettiamo un'ora e mezza o due a seconda di come va eh ci credo se arriva il buffone parla del gioco vai faccio vedere sì 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 godiamo rimlagga cioè va tipo a 30 io vedo ok catturato sul next gen hardware questo sì segnate questo trailer e poi vai a vedere come sarà il gioco sì tipo quelle cose di ubisoft sì esatto tutti downgrade e la cosa più bella era quello di Watch Dogs eh quello veramente cazzo ma ogni tanto sai mi vado a rivedere c'è un video che fa tutti sì sì che fa vedere tutti i trailer downgrade sì esatto esatto ogni tanto ve lo riguardo almeno una volta all'anno ma pure cyberpunk effettivamente un po' vabbè oddio lo grabba vabbè questo c'era pure su death space tipo pure il mirino è simile oddio ma che è decemento wow verciccio bonk ma ah un attimo ho succiato la visuale in modo strano vedi sì tipo delle t'ha spostato ma dove spara guarda guarda che dodge eh quando passa dall'arma fisica alla pistola fa un attimo uno scatto gianchino grazie dei 40 no ma il la calpestata è letteralmente identica a death space è la stessa calpestata manco l'animazione hanno cambiato è la stessa locked it's locked ah si è messo una tutina qua questo sempre quello sarà sicuramente l'inizio che tu sarai imprigionato e ti liberi dalla prigione e poi va in giro per l'astrona no manco è un pianeta questo oh che schifo bello io che cosa figa che calone là dentro bello te l'ho detto che frame lagga infatti diciamo non la miglior cosa da far vedere ma va 3 fps oh cazzo e così muore wow è finito il gameplay questo è un finale segreto oh madonna sarà una delle tante morti pure su death space sarà pieno dei morti così c'era pure un trofeo mi pare in cui dovevi sbloccare tutte le scene di morte ah puoi essere strane andiamo finalmente a vedere un gioco nuovo dai eccolo call of duty qual è che flex meccano un bastido uba giovanna farias amica tua mia sorella ma che è c'era il distintivo della polizia tipo siamo più grande siamo più grande e abbiamo portato l'interno price gas sop alejandro e ovviamente ghost che dici personaggi boni che hai fatto su call of duty rifacciamo siamo lì oil rigs cargo ships and staggering odds are just the beginning here is modern warfare 2 secondi che questa la fa solo sta si si sta buffonata si esatto vabbè dai quertellone sarà fatto un computer grafica non c'è che dove hanno fatto quertellone no l'hanno fatto davvero perché c'è la nave che si muove in un altro trailer poi guarda che grafica ma che cos'è questa acquetta mamma mia che buffonata la schiumetta è un po' bruttina oh però te posso dire a me il multiplayer può pure far cagare però se fanno una bella campagna c'è fotto eh anzi la campagna da mv2 quello original ancora pisce un sacco di giochi eh è una signora campagna quella mai una volta spesso i Call of Duty li giocavo anche solo per la storia io da ragazzino Call of Duty 1,2,3 ho fatto tutta la campagna stavo tutto Dio la seconda guerra mondiale che fica si si no la storia cambia ovviamente eh si perché se mi rifai se mi rifai la stessa storia me lo sbatto in culo il cazzo ci devo fare questo comunque si è simile alla missione quella allora se ci stanno i tizi bendati con le bombe addosso impazzisco ma che è quest'arma un vecto vecto come camper bello l'audio come è cambiato quando ha aperto la porta questa comunque è una missione che c'era su Mv2 eh può essere che delle cose le riprendano se sbucano i juggernaut se sbucano tipo gli ostaggi appunto bendati con le bombe addosso la stessa missione tipo no io non me la ricordo che tirano pure i fumogeni e usi il termico qua vediamo vediamo un po' è comunque un sequel del di Modern Warfare che è uscito nel 2019 però mi sono non ci ho giocato io non mi ricordo ho un dubbio oh seccato ma guarda che c'era pure la missione non era solo delle spec ops sono abbastanza sicura eh tipo le spec ops me le ricordo come le hai descritte te si quella c'era proprio quei juggernaut poi c'era anche la missione della campagna più una molotov a lei oh tutto il budget speso per quel telo che vola esatto quanto scommettivi del gioco completo lo levano sicuro peserà 9 miliardi di giga quel telo che vola così ciao te una grazia dei tuoi anni con tutto rispetto come me sbatte la caffella della missione della campagna the god anche perché ho stesso gioco la modern warfare 1 della modern warfare 1 militari mi raspara eh si si col sangue ma si dovrebbero fare fai multiplayer gratis campagna 20 euro eh non so se ci rientrano quei costi però capito eh lo so quello si eh secondo me la cosa tipo multiplayer potrebbero fare così ma se facessero cioè se fosse capito shall of duty a stagioni e come è war per dire no che è continuata ai giochi però se invece poi si devono dividere tra e questo lo fa infinity world questo lo fa treyark sledgehammer c'è una cosa che l'hanno tutti tipo guappare lì perché lo fa uscire tutti l'anni e poi magari va bene per la campagna tipo dici magari un anno fa una campagna la fa anche perché le campagne dei black ops senza senso belle bellissime belle vere poi a me treyark mi è sempre ripetuta visivamente com'è il tuo bello una certa colorazione questo che è sledgehammer cos'è no infinity world questo forse in collaborazione con sledgehammer perché mi ricordavo che era i modern world che gli faceva sledgehammer e quell'alti era reyark no 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 fazzo sledgehammer di solito prima era un team di supporto e poi l'hanno resi indipendenti sledgehammer ha fatto mv3 mi pare da mv3 sono diventati indipendenti se non sbaglio ma lo ricordo io mi ricordo che c'era uno che l'aveva fatto anche raven qualcosa mi ricordo che c'era un corvo tipo call of the ghost forse mamma mia il cod più brutto di tutti i tempi che c'era il cagnolino che schifo ghost sta a far venire da fumitare sta cosa da poi tutta la missione che questo fa una all'ora giochi della campagna si esatto madonna come rashi prima persona puzzosa vabbè ma call of duty è in prima persona dunque la ghost il 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 franchise è mezzo crollato prima con un unit lo compravi comunque quando sono arrivate le nuove console in verità fazzo perché ghost era ps4 si era il primo da play 4 da lì è andato un po' da lì è andato bello down hill no si fanno la conferenza è solo code oggi ragazzi è solo è tutta la campagna tutta la campagna in anteprima così non lo devi comprare comunque sai che io questa parte me la ricordo però una nave questa era una mappa di code 4 se non sbaglio se c'è un elicottero sopra 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 allora me la ricordo da qualche gioco se mosenta qua e sopra si c'era tipo la piattaforma eh io quello ricordo o forse sai cosa mi sa che è uncharted che c'è il combattimento finale alla fine con l'elicottero pure vabbè che tanti le navi container sono quelle eh sì esatto non è che ti ha poi inventato ah ok eh infatti era un po' strano e là dentro c'era il segreto di Pandora che poi pure nel senso tu hai già fatto i giochi si chiamano Modern Warfare e Modern Warfare 2 ma perché devi richiamare così non capisco prestrizzare l'occhio prestrizzare l'occhio alle vecchie generazioni eh finite le parole per crea giochi vocabolario terminato ah Jeff Negus Hammer Code Fest con questa scuffietta con questa scuffietta a testa questa cosa io non capisco nel senso stai andando una conferenza vista da non ti dico milioni di persone ma ma però ti vesti come ti vuoi vestire Fazzo sì ma giustate ma guarda come cazzo stai ebbè ma magari il suo stile ma che stile del merda è con qua scuffietta del merda ma che è mister ma guarda c'ha la magliettina fosforescente che se dovevano fare un green screen volava subito la dista con quella ma lei è infatti è nuda oh gazz però guarda vedi lei è tutta abbinata bella lei è collegata pure alle maglie ai pantaloni eh appunto scusami no alle scarpe c'hanno le eh la salopente è collegata che no ho vista guarda che ciavate beh però lui è collegato sì è collegato a cert ecco è collegato mi dicono dalla chat però si parla il spazzone con la maglietta di Battlefield tutta rovinata sì quella c'ha un valore affettivo me la ricordo se dovesse andare a una conferenza d'ammione e me metto quella ah no rincoglionilo che ti metteresti è appena insultato il tuo idolo comunque è Manu che grinta me ne metto te come sciarpa e vado nudo quello sì che c'ha stile è una bella sciarpa secondo me eh diglielo Sabi conferenze importanti giacca e cravatta c'è un astronauta sul tatuaggio il tipo ecco perché lo difendi perché è coglione c'è pure una cassetta musicale analisi dei tatuaggi del team analisi dei tatuaggi del team sì vada così c'è pure un apple watch tocca vedere il quadrante fammelo vedere in me che c'è stato polino fammelo vedere si è acceso vedi che c'ha le scrittine c'è scritta la pasta del conto in banca si è attivata Siri guardala comunque lei è grande figa anche se non ho sentito un cazzo di quello che hanno detto tutte cose interessanti back all of duty sti cazzi cose interessanti vabbè dai schippate sta buffonata ragazzi abbiamo visto due giochi in mezz'ora sono le otto e mezzo sì abbiamo visto il gameplay di Callisto Protocol un minuto due ore di code poi il trailerino di Street Fighter che già avevamo visto e va fine ma sopp è vivo beh sì ragazzi cioè ricomincia tutto ma non è legato ai vecchi ai vecchi Father Warfare e mo? a classic così 30 anni dopo cazzo è Monkey Island no? ma che dici? eh non lo so 30 anni dopo guarda come zompa il ritorno di un iconico franchise mi pare così Monkey Island vero no pensavo perché era recente l'annuncio pensavo presto di qualcos'altro continua farpoint flashback 2 S5 S5 4 Xbox 1 eh poccia erano due e che qualcuno che ci illustra è l'iconico gioco di 30 anni fa ah dici lo conosci sei un coglione come fai a non conoscerlo pozzo cazzo di 32 il franchise per pc che torna lo conosci spara di in gola ciao Giulia made in 3 allora spara non c'hanno made in 3 mi denudo mi denudo subito oh who is this pasti force person shooter ma non ero tutti i coglioni ma sarà tipo nel medioevo però ah bloodbath 2 GG che le cd ha il derring con le pistole ah eh non lo sapevi fazzo bello andiamo ma dovrebbero far vedere magari coso tornado di zoccole cosa sto pensando alla traduzione di tornado di zoccole come diventa no no non è coso come si chiama dai quello di ratti ah ho capito quello di topolini eh plug tail plug tail sì e quello dove non deve uscire un po' sì è vero beach tornado sì era un po' strano beach tornado no perché in mezzo ci sono durante il gioco ci sono proprio tornati di topi quindi tornati di zoccole poi era bello io l'ho giocai al day one per tipo 3-4 giorni ma non l'ho mai finito poi ho visto te l'avevi fatto qualche mese fa io l'ho giocato un po' di tempo fa e cassa ci avevo fottuto comunque questa cosa è questo gioco è una delle cose più brutte che abbiamo visto in vita mia ma che cazzo è non ho idea di cosa sia è terribile questa è un segno della croce oh cazzo madonna witchfire ma ancora che si me l'avevano già annunciato perché io già me lo ricordo un po' witchfire c'è un mezzo nome ma questo è il classico è infatti è per pc è il classico mezzo indie distorto oh vazzù witch drops a me è appena arrivato stesso gioco no 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 stai streamando su special events eh a me è arrivato un twitch drops per la mia stream penso anche a qualcun altro in chat anche da te arriverà tu hai attaccato un po' dopo però oh 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 bu ok a questo ah è vero hai conquistato un drop hai visto che cosa ha riscattato ma che mi ha dato scusa non ho capito manco io ah questo è quello è un sequel non è tipo deliver us to mars ma mi ha dato una cosa del warframe ah ma che cazzo ce devo fa shout out cazzo dei 23 eh sì secondo me è quello che dico io eh ok quello l'avevano già annunciato non ho visto un cazzo si l'avevano già annunciato se l'avevano già annunciato se l'avevano già annunciato se è deliver us to mars l'avevano già quanto li odio mamma mia no no che cos'è tocco port solis in casa è la stream si no the game awards ma su twitch si port solis che hanno annunciato di caliente ma guarda 20 minuti di call of duty abbiamo visto ah hanno fatto vedere il gameplay si coca arma si mira e si spara e si lanciano delle molotov no ma che dici non te l'aspettavi eh non lo so questa è una cosa sconvolgente ma si quest'anno oh però i beggar poggers come fa la voce di qualcuno pazza che fregna quella a sinistra eh try beggar quello che fa la voce di joel in the last of us ma che dici davvero oh stavo subito proprio già morti figo grazie di te dici comunque quest'anno è l'anno l'anno scorso era full zombie quest'anno quest'anno è full astronavi roba nell'astronavi è vero ah l'hanno fatto vedere mh colco dio calisto si hanno fatto vedere un po' di gameplay un minuto di gameplay ah bene però sembrava figo ma è letteralmente death space in graficato ma sì ma quindi non è in terza persona sì sì che schifo no mi fa vomitare mi fa allora dipende come hanno gestito il fob perché se è gestito strano quello ti fa veramente vomitare perché sarà tutto dondolante no no sì ho capito boh non so perché io ho rompito la persona ah hanno annunciato alien un nuovo gioco di alien sì ma ma da quel che ho capito hanno fatto vedere il gameplay che è vomitevole sì è isometrico sì ma che significa isometrico è dall'alto non è isometrico no ma va cagare lol è isometrico sì tipo lol non è dall'alto è in tre quarti tipo non so come si spiega la besta l'hai chiuta no mi sta dormendo sul tappeto no ma ma da stamattina che a me mi chiedono una cosa ma te ne invito dalla festa di Dustin ah dannazione la devi da a breve ma teoricamente dovrebbero invita pure dei titi eh infatti mi hanno detto che mi devo invitare però sì sì tranquillo tranquillo ma qui ti dovrebbero far vedere anche cosa no il remake ti ti ha sei sì sì vabbè è remake della space no no è un leak la maggior parte non lo sa anche il fazione non lo sa io lo so perché me l'hanno detto accidentalmente ah è remake the back of the 2 ci sta tipo ovunque eh io non ho guardato io ti giuro che non ho visto niente il fazione pure non lo sa vabbè c'è non è che sia comunque una cosa pazzesca vabbè quindi è un remake del gioco incredibile lol 2 peggol 3 waiting room ah sì allora io lo dico giommo fanno vedere il gameplay di avatar e peggol 3 ti do un miliardo di sub oh dio avatar avatar io lo voglio porca droia avatar ti do un miliardo di sub avazzone ti rendi un testo tipo 4 miliardi d'euro eh non vado a spese ah ci sono pazzo sono pazzo te do anche un pezzettino di portogallo oh dio mi serve mi serve assolutamente così devi comprare il maestro si guarda uno fa vedere per gol 3 se non trovo niente eh carino per gol 3 io sai cosa chiamo questa è proprio sentita secondo me fanno uscire Among Us Among Us 2 cioè una roba di Among Us importante Among Us VR sì 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 fidate una cazzata di merda guarda che potrebbe anche non essere stupida la tua roba sai perché stanotte a luna è uscito la roba di Fortnite eh no lo devono ancora mettere lo mettono oggi ah lo devono mettere oggi che è successo c'è la collab con Among Us mettono tipo la collab con Among Us chapter 6 no ma non lo so stream Titty Eh, l'ho convinto. Who's this? Stranger of the Games. Che scherzo, ma magari. Ma che è sta roba? Ma questo è il giochetto con cui tratto per gara. Ma l'ha trovato uno spazio. Eh sì, vedi, è la luna. Ma basta. Un horror comunque. Sì, ormai è l'anno dell'horror, regà. Ma questo è Alien, è buono, mi sa. Ma quanto è passato? Ma lo stai nello spazio. No, sì, questo è Alien. Questo è Alien. Questo è Alien. È quello di prima? No, c'è stanno i robot, ma che è Alien. È Alien. È Alien? Isolation 2, impazzisco. Ah, davvero? No, sì, cazzo, è impossibile. Cioè, mi seguerei in maniera arda. In maniera copiosa. Ah, frate, io mi voglio fare la quarta run di Twitch e st'estate di Alien. È bellissimo, Alien. È io che tutto che odio gli horror. Bellissimo. Bellissimo. No, guarda, non mi sembra, eh. Però sembra proprio... Porca boia. In stoccherini, il film di Alien. Porca boia. Routine. Routine. È proprio Alien, ragazzi. Però sembra tantissimo, eh. Eh sì. No, però sembra veramente... No, ma che era? Ma non è c'è su PlayStation. No, 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 c'era PSA, tutto a sinistra sta. C'era, ragazzi, quattro anni. Ma sai che seca gli ha tirato. Vi ricordate invece quello russo? Sì, 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 sì. È una poca notte il maestro. Oh! Eccolo qua, Fazzone. Ma che scherzo, ma sta in palestra tutto sudato. In realtà Gianmarco è la roccia. Infatti appena è andato via Gianmarco arrivato. Pubblico cazzo di santo. Questa cos'è? La palestra della sua casa. Ma allenerei pure io? Se scendo c'è sta palestra. Ma che è sta sponsor? La roca? La roca? La roca? Che motore è la roccia. Ma che dettivo. Ah, su Fortnite. E no, Ark c'è Bin Diesel. Questo fa Ork. Ma che cos'è questa roba? È una sponsorizzazione della roba che fa The Rock? Ma penso che sì. Ora sta a parlare del film che fa Black Adam, è un nuovo film della DC. Black Adam ha i poteri di Superman, ma l'unica differenza, beh, c'è un po' differenze, ma l'unica differenza è che la fortità di Superman è magica e la sua superpowers è magica. Thanks for my friend Gianmarco Rocco, for the memes. Abba la roccia, c'è rotta il cazzo. Posso far notare una cosa stupida? Dica. Qualcuno si fa, sarà fatto la domanda che io esco da Team Speed e esce la roccia. Se tu avessi aspettato che lui andava via, sì, 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 ma non mi andava perché ho detto la che è bella che è volata. Ma cosa sta sponsorizzando? La lattina sua. La lattina sua. Ah, fanno vedere il film di Black Adam, il trailer, ok. Sto Black Adam è tipo Thor praticamente? No. Sì, sì, lui c'ha un martello e c'ha i fulmini, sì. Ma tu l'hai visto il martello? Il martello mi ricordo che ce l'aveva, ce l'aveva da fare una... Discussione sui film dei supereroi. Ma che stai a vedere? Ok, scusami. È andata. Però scusa, Black Adam non c'entra un cazzo con ovviamente nessuno. È della DC, c'entra con Shazam, Superman, eccetera. Quindi l'hanno ficcato dentro. Ah, mi seguo! Doveva essere così, ovviamente. No, però raga, è inguardabile con una... Non si può guardare. Non ti piace il costume? No, sì, sembra che gli hanno messo una roba da tutu di ballerina intorno a XS. Perché stavo a vedere? Perché sta capolando? Considera che sto film, The Rock, lo doveva fare tipo dal 2005, eh? Sì, sì, considera che nel 2016 io vado a vedere la cinematografia di The Rock e c'era già questo film. Sì, sì, ma... C'era già di mezzo. Outriders, che bomba! Sto sentendo, ma... Che bello! Bello! Queste musichette tutte sgasate. Come se poi li mettessero dentro al gioco, no? No, per cazzo. Omega Lul Outriders. Sì, ma c'è devi tarciotto, no? Sti... Yoshi 93, su. Ma poi cos'è questo? Un DLC? Oh, tu, roido, lo so! Wow. Tutte live che me pagano, pazzo. Sboccia. Sì, cazzo. Magari. Magari davvero. Magari, guarda, se me pagano Outriders vi dico che è il gioco migliore del mondo. Che è, guarda. Mamma mia, assurdo. Ehi, flera. Copino? Ci siamo svegliati? Sì, cibo! Sesso! Stai in destra. No, me guarda, tipo tutto rincoglionito. Ma la bomba di oggi, quando la tirano... Ma, guarda, era Call of Duty. La bomba era The Rock, che spamma bottietta. Ma che poi avevano pure pubblicizzato The Rock come ospite dell'evento. E invece stava pure con la videochiamata. Master! Bellissimi esseri umani. Sì, non devono mica dare... Non devono mica... Ah, cioè, si era detto che ci fosse una bomba? In teoria c'è sempre. Oh, mi credo! Coming soon! Ma quanto cazzo sto in ritardo? Oh, come Splatoon 3! Ah, è un mashup di roba Nintendo. Caphead! Ah, perché la fannoci pure per cosa? Sì. Facci loro svegliassero peggio. Pen of Blade Chronicles 3, azza. Eh, se c'è una maria di soldi lo gioco. Oh! E questo so io se provo a correre per dieci minuti. Questo è un'angazzata. Siamo che ero morto. No! Fall Guys! Ah, beh, perché fanno l'aggiornamento. E questa è la nuova season, sì! La nuova season che dovevo farla ogni due mesi e questa è quattro mesi che c'è stata una season su Fall Guys. Mi seguo! Eh, sì, sì. Mi seguo, Fall Guys, eccolo! Sì! No, chi è questa? Valkyria! È cosa? Valkyria, è vero, è Valkyria! Mamma mia! Mia madre è assoluta! In America c'è stato, in America, fratello, c'è stato noi al posto dei Valkyrie. Mi hanno contattato pure a me. Sto dentro al coso. Vero, te hai dito i tuoi che ci eri andato non sotto sto gioco? Madonna! Ma comunque meno corone dei mesi. Vole! Bro, stai parlando con l'unica vittoria italiana del Rivals, è la mia. Il maestro, è un po' il maestro. No, bellissimi. Il maestro! Guarda, guarda, il pinguino! Guarda, il pinguino! Ok, però sto, vedi tutti i skin troppo banali, c'è una serie animata di Fall Guys. The Greatest Game Show, la Madonna! Però dai, secondo me la voglio fan grande stavolta. Sono uno Fripo Roll. E beh, tutto gratis su tutte le piattaforme. Ah, l'hanno fatto a gratis, è per tutti. Sì, 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 ma l'avevano già detto dal 21 giugno. Cambiano loro tutto. Capirai, ovviamente. Grandi coglioni, dopo che io ho speso due cesare. No, eh no, Marzo. Mi ridanno. Sì, quasi. Cioè, non è che ti danno i soldi che hai speso per il gioco, ma ti danno della roba in game esclusiva per te. Sarà una merda la cosa del cinghiale, te danno. Tu ci devi sempre credere su Fall Guys. Ancora? È FGiant. L'era glaciale, il videogame. No, no, è FGiant. FGiant. Grazie dell'ostro, Yoshino. Chiavo. Ma comunque, cioè, è sempre una roba semispaziale? Sì, infatti hanno rotto al cazzo. Eh, ragazzi, lo spazio. Fate a me un bel gioco dei rollo del medioevo. Eh, se questa fosse grafica, però ci metto la firma. Qualsiasi cosa sia. Diglielo, Ditti, porco di Dio, diglielo. Ok, sì, ma no? No, no, no. Ah, sto deciso. Per me parlo con un cazzo, mi pare. Perché finiamo con un cazzo stare a parlare. Ti ho sei destri in faccia, ti do. In che c'entra? Oh, Tammi, sta, dove sei andato? Ah, nel letto a dormire. Il Tammiere, il Tammiere, il pomco Dio. Il Tammiere, si alza, mi guarda, te fa miau. E se va a buttare sul letto. Grande. Ma lui, ma che cazzo gli frega a lui, zi? Ma che gli frega, anzi, gli è stato pure a rompere i coglioni. Dicevo, questo quanto chiacchiera. Ma che è sta buffonata? È una giama dell'infinito. Ah. Godfall. Ah. Devi costruire le reliquie. Devi tornare qua ogni volta. È un tempietto dove costruisci le reliquie. Oh. Meraviglioso. Ma a me sembra che l'ha caduto. Oh, sì, io ci ho visto un porno quando si inizia. Ah, sì? Ma adesso poi ha trocicione. Il buco del culo. Che stranezza. Oh. Sì, sì. Può si parla così, queste parole, fanzo, dai. Sei letteralmente atrasciccione, ma che sto a vedere. Ciao. Viva. Ma questo claxon era nel gioco e era fuori. Era nel gioco, era nel gioco. Cioè hanno fatto pepepepe. Sì. Ah. Vabbè, Pacific Rim. Com'è un bel destro. Vediamo. Bello questo rovescio, mamma mia. Ed è un bellissimo. Anzi, quello è Jin Diavolo 6 Evil. È David Jin, la fine della storia. Oddio, è qua? Distrugge. Madonna, riesce a lanciarmelo. Oh, zizio. In petto. Lo ha nienta. È scolverizzato. È veribile. Ah, ma è solo un coglione a pieno. La sequenza di volo. Hell's coming with it. È orribile. Stormgate. Registra per la beta del 2023. Ma guarda. No, grazie, grazie. Però apprezzo il pensiero. Apprezzo l'incoraggiamento. No, il pensiero è sempre carino, secondo me. Sta. Vabbè. Gabus, che cazzo di sei? Una domanda così, ma c'è qualcosa di effettivamente giocabile che hanno fatto venire? Stormgate. È innovativo. È innovativo. È il cod nuovo, sai, ieri con Gianmarco. Tutti gli citati. Mv2, Mv2. Ma come cazzo può essere il Mv2? Cioè, come può? È... Fa una più più. Fa più più. Fa più più. Fa più più. Fa più più più. Mazza che occhi questo. Fa più più. Farezzo un piccate. Zubu, Zubu. Magoloso, grazie per il Prime. Ben tornato nella fase del settimo mese. Grazie mille. Dai, ti fanno sempre le stesse buffonate. Capisco che devi tappare due ore di conferenza. Per carità di Dio, però... Certo. Mazzo, prima tu stavi a criticare il tizio con la cuffietta, ma guarda questo. Questo sembra uscito da letto. Esatto, stava sul divano e mi ha detto, oh, tocca andare. Oh, sì, c'è la conferenza. Ma che cazzo dici? Come c'è la conferenza? Sì, che vado. Sabino, questo si deve vergognare. Madonna. Con che cattiveria. Sabino, non ci sta. Costretta a giacca e cravatta tutti i giorni. Sabino, uomo vero. Guarda che braccio, però, che c'ha questo. Questo te da una grotta, sai tu te manna. Ti istrugge. Ma che, ma se lo piavi tu, Pazzo, quando facevi quei tre minuti di palestra, lo sfono. Ma sì. Pazzo. Manca a dirla. Manca a dirla. No, ok, è iniziato. Che? La palestra, no? Ah, no, te pari. È grafico, questo. Che manca, facevi gatto più palestra. Ti trovavo un piccato. Magari andavo pure a scopare. Capito? Oh, tu ma si gioca dall'alto. C'è tutto quello gameplay, tutta quella grafica là. Ma, ma il 9 di giugno si streama su Twitch, eh? Cos'è il 9 di giugno? È bisogna lavorare? Ah, oggi è il 9 giugno. Eh? Ma perché no? Non lo so. Non c'è un po'. Ma c'è l'hai Mario Stryker? C'è l'hai Mario Stryker? C'è l'hai Mario Stryker? Dopo, sì. Sette va. Me l'hanno mandato? Dopo ci possiamo beccà. Eh sì. Ma l'unica cosa che mi sono domandato fa, Zoe, è... C'è l'hai perché te l'hanno mandato pure a te? Sì, sì, sì. Eh, ma... C'è tipo c'è un e margo? È a mezzanotte di solito, eh? È capito? Nel senso... Ah, ti sei po' fa prima. Eh, esatto. Quello che dicevo io. Allora, secondo me, se te l'hanno mandato puoi farlo. La cosa più divertente è che ce l'avrei anch'io. A Roma. No! Olè! E dove l'hanno mandato, Marzo? E che cazzo ne so? Ah, quindi tu dici che c'è l'e margo a mezzanotte? Eh, a me di solito il Nintendo mi ha sempre detto mezzanotte, però... Che pa... Eh, alla mezzanotte è passata. Eh, aspettiamo a mezzanotte. Io voglio fare il gioco, io voglio fare il gioco di bomba... All'isbona, sapè. Voglio fare il gioco della bomba di... Di coso? Di Gianco. Cioè, vi prego, facciamolo tipo in dieci, è bellissimo. Allora, il gioco della bomba di Gianco. Ah, sì, ieri abbiamo fatto un giochino con Gianco, tipo... Eh, ci metti tre secondi a entrare, c'è tipo un browser game, e tipo c'è la bomba che esplode, cioè che potrebbe esplodere in ogni... In qualsiasi momento, e tipo ogni volta ti dà tipo delle lettere da usare in una parola che devi mettere. E tipo ti dà a V, devi scrivere una parola qua a V, la scrivi e la bomba passa una a quello dopo. Ah, sì, è tipo il gioco della bomba, quello no, che ci passa. È esatto, ma... Secondo me... Bellissimo, secondo me... Sabe che non vuoi ne trova quando vuoi, Sabino, eh? È stato dicendo, secondo me, i signori, se vanno mandato onesto, è proprio per sponsorizzarlo con l'uscita. Quindi, secondo me, è un discorso sbagliato. Non lo so, però, è per di tipo, è per di tipo, è per di tipo, è per di tipo, è per di tipo... Se fanno un attimo il tutorial, perché non c'è manco giocato la demo, non so se tu hai giocato la demo. No, no, ma anch'io. Ah, sti, cazzo. Facciamo un attimo il tutorial. Replaced. Bloodplay! American Arcadia! Mamma mia, ma come viaggia? Perché lo conoscete? Che cosa c'è? Stavamo a prendere un culo. Ma guarda che pixel. Ma secondo me, questo è un gioco strepitoso. Questo è un triplato, dovrebbe essere. Ma posso fare una domanda e poi, così sto zitto per il resto di questo gioco, clamano mai il naso, non gliel'hanno messo. Il naso è sopravvalutato. 2022! Per me, però, hanno fatto così, eh. Hanno fatto giochi di medio interesse, giochi indie e poi le bombe finali. Qua tutte bombe, eh? Sì. Andre, cazzo di 43. Ma Fazio, te lo spari tu Formula 1 pure quest'anno, sì. Quando esce, Fazio? Eh, l'1 normale, io immagino che potrà avere... Luglio che è luglio. Luglio, luglio, luglio. Ah, bravo, voglia. Da di nook. Da fare quello, Fazio. Facciamo gare online, sta convincendo tutti. Ah sì, nel turbo-gilling gasoloso. PS4, PS5, sicuro. Ah, che vale. Non so con il PC, però. Tocca rifà la GOP, la cagano il campionato GOP. Eh, io la farei, però è che tu hai la figa e quindi giochi con il pad e più ti viene da vomitare. Eh, faccio un problema, è sempre quello dell'anno scorso. C'ho la scrivania troppo sottile. Questa è una vogliata, fratello. Perché io a Titti ho dato un coso che costa 70 euro. Ti do, porco Dio, sei da voi. Ah, tu dici il cosiddetto così. Eh, ma quello non l'ho preso per un'alto motivo, è che non c'ho proprio più spazio per caso. Eh, esatto. Io, signori, non ho una scrivania. Ti chiude quel freno. Ti chiude, ti chiude, ti chiude. È come il ferro d'assilo, capito. Sì, chiude, semplicemente ogni volta devi levare i pedali. Ma intanto Mico fa tutti i giorni, cioè finché lo vuoi fare, poi lo prendi. C'è il tuo Amazon, sei via sto fregno? Sì, sì. Ah, beh, poi se ti ricordi, linkamelo. L'ultima volta che ho giocato Formula 1 sarà stata l'estate scorsa. Ah, ma pure io. L'ho ancora montato qua, accanto a me. Vabbè, ma perché è duro, eh? Perché è tipo un carellino, cioè dai, cazzo. È un profilato, Faggio, proprio un coso di... Profilatico. No, un profilato di ferro, cioè capito? Sono quei cosi che montano. Oh, Capoccione. Che stai a fare, Capoccio? Capoccio, vi è qua. Oh. Ma che è sta merda? Lazzi, questo è un gioco di Decathlon. Questo è il trailer di The Island 2, gioco che non è mai uscito. Penso davvero se l'ha fatto Epic e l'ha fatto... No, potrei impazzire, sarebbe tipo il meme, perché... Lazzi, è uguale. È identico. Running Simulator. No, guarda, è ottico, è identico. Guarda! No, che è God Simulator! Lazzi, gliel'hanno rippato. Non ci credo. Beh, onestamente, sì, cioè mi esce la PS5 e io mi devo vedere dopo un anno questo. God Simulator 2! No, è fascista. Stammino! Stammini sta! Sulla sedia si fa accellare. Anzi, questa è una delle cose più generale che abbiamo mai visto. Io ho giocato a questo cosmo, ma ti fa avere un mal di testa nel diavelo. Sì, io God Simulator l'ho giocato una volta e vomitato, quasi. Perché? Ma è troppo maschile, che è la visuale. Davvero? Io ho un giocatore, sì, sì. No, il 2, il 3. Il 2, quando è deciso. Aspetta, cazzo il cazzo. Wishlist now. Ammista, vieni così. There you have it. That was God Simulator 3. Sì. Ah, dannazione, l'abbiamo droppato, ragazzi. God Simulator 3. Oh, fuckers. Ti parla è un gioco che fa un po' cagare, ve lo dico già, mi esistica. Ti, porco Dio. Non è che se ne ficca, non è che se ne ficca. Vai a cagare, allora, figa di ora. Guarda che graffichina che ti fanno vedere e poi invece è il gioco di carte. Visto un ricetto, maestro. Che carino. Non è un gioco di carte, è un gioco... Oggi c'è tutto lavato. Infatti, guarda come sta avvelenato se lo tocco. Va bene. È certo. Devo non me toccà. Ah, povero te merda. La coglione, te sfondo. Oh, silenzio assoluto qui, eh. Possegui questa la grafica. Ti dovete seguire il Marvel Midnight, cazzo. No, vabbè, gioco, possegui questa la grafica, guarda mo' com'è. Gioco de carte, vediamo, è praticamente, non so come chiamarlo. Voonom. Come è Voonom. Voonom. È Venom. Ah, è Venom sordo, dici. No, no, è Venom normale. Ma che, poi, che cos'è? Ma c'hai i denti di Zano, Venom. Paratino, stai dormendo. Adesso ti cago il cazzo. Gni, 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 gni. Voi dite, perché mi viene a rompere i coglioni a me? Mettite bene, madonna, stai tutto spiaggiato. Dio lo sto facendo fuori col fuoco. De mi madre, esatto. Spuderman. Spuderman. Via, la versione alternativa. Guarda, c'è Spuderman, lo puoi vedere? Spuderman. Un altro Spuderman. Sono due Spuderman. Tre, quanti sono? Che gioco di merda, guarda, te giuro. Tra Marvel e DLC o come si chiama, devo bruciatutti. Ma guarda, se fosse così, però, già, ma, te dici pure pure. Cioè, guarda com'è graficamente, eh. Ma io ti do sei cazzotte, Titti. Sei cazzotti, uno dopo l'altro. Guarda che bello Spuderman. Ma che è il suo fregno? Ma che è malefica? Ma come cazzo hanno vestito, Spider-Man? Ma che è YMCA? Ciao. Bella, stasfina di Shadow Legend. Beh, questa è la leggendaria dei demoni. Mazzini, tra i leppi champion nuovi dell'Holo sono mille Yps. Ah, quello è... Guarda, c'è sta Hulk. Ma chi è? Hulk. Hulk, sì, Hulk. Hulk corrotto. Midnight Suns, October 7. Ma non c'è di player. Skid Midnight Suns. Hulk. Ma ragazzi, non ci prende per niente. Ma non è Doctor Strange, regà. Ma che fa? Ma che fa? Ma era vacchi, regà. Porco Dio, era vacchi. Ma è corruto? Sarà tuo padre? Ma che vuol dire? Roar. Tu sei un gatto. Roar. Comunque c'è la scelta quest'anno da giocare, eh. Eeeoh! 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 No, show me poco, porca madonna! C'era uno show waddo tipo tutti i boss, la stavolta! Eh, che cazzo! Ma secondo me è grosso, eh! Non lo fanno troppo poco! Che cos'è la del gioco? It's really coming! It's really coming! Ma no, i giochi, a prescindere da tutto, che siano grossi o meno in realtà la prima round! Masa Moldenauer! Masa bruttina! Masa, vuoi vedere il mio tommista? Masa Buberst! I feel like you... It's hard to game play, it's difficult, as we would expect. But this will work, it's cool even in the next level! Porco Dio, Dea! Una bella Dea! L'hanno portato tutto alla next generation! Guarda questa vista come se è avvelenato, ha visto la fica! È gaspomaniaco! Tummy! È davvero! È puntato! Anzi, di birra di fregna il gai, il baffo di Tummy! Proprio così era! Da sempre! Forza Roma! Guarda che quadricipile! Forza Roma! Eh no, Giro, gli taglio le pallette al Tammista! Mamma mia che bello, vorrei fare pure io, porco Dio! Non deve scoprire la passione della figa, se no diventa pazza! Comincio a fare... La prima volta che metti una tenda ti farà una strisciata dei pisciacchi a sotto, glamorosa! Grande uomo ghiaccio! Mamma mia, già lo so quanti insulti prenderò a giocarlo con Gianmarco su Coso! Sì! Ma... Mamma mia con l'Ebola! Eh, lo mi piace! Questo template mi piace! Lo gradisco! Qui sono dei nuovi proiettili? Eh sì! Sì! Sì, sì, sì! Una marea di spari nuove! No, però almeno hanno fatto giocare a un umano! Di solo queste cose fanno uno che prende l'Ebola instant! No, ma non può signori! C'è uno normale, non è possibile! Deve starci uno con cosa giocare! Ma tu hai finito col maestro? Se lo vuoi con Gianmarco! Eh, ma l'ha finito letteralmente solo lui! Cioè, non ho fatto un caso! Guarda, io ho l'archivement! Ho finito col maestro, ho finito col K-Pens! Eh, oddio sei un neroe! No, ok, out! Oh! Oh! Niente, ma l'ho fatto vedere! Un boss intero! Reghiaccio morto! Ah, ok! Vabbè! Now, if you want even more Cuphead! And who doesn't! Tomorrow we will show you in exclusive look! Che bellezza! Che bellezza! Che bellezza! Ah! Ma ne fanno vedere la season 2 della serie su Netflix! Uno sneak dei caffè! Hai visto? Sì! Sì, come si dice pollo in portoghese? Eh... Joao! No, il frango! Il frango! Sì! E tu vai girando per il caso! Eh, ma la cosa non sta via dire! Ma è un taglio cavolo! Ma perché tu vai? Cioè, è il peito de frango! Cioè, a scorre de franco! È il petto di pollo! Sì! Ah, quindi hai fatto un peito de frango! Sì! Mettete mani il peito de frango! È una cosa bellissima! Tu immagini i vicini che mi sentono grida pollo, pollo! All'infinito! Petto de pollo! Petto de pollo! Ma che cazzo si è trasferito! Tiki 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 tiki! Come faccio un petto di dammi! Gioco per Switch e PC! Olè! Ah, ma questo l'hanno fatto vedere! Quello con le carte! Che sceglie le abilità... In base alla carta che hai in mano! Ma questo sembra ufficialmente una mina! Questo... We're called Neons! Ma che cazzo è? Kingdom Mars che casca nell'acqua così! Vaffanculo! Coglioni! Tuponi di merda! Ma non è che sia un po' ambrosio, è un po' aggressivo! Ma c'è il botto! Questo però è carino, mi sa, eh! Ma vedo, ma andai mi sono... Io mi ero scordato che avevano annunciato Kingdom Mars 4! Vabbè che uscirà nel 2000 e quando il giocato è morto! Anzi al 2000 e quando il giocato è morto! Ma muori prima che esce Kingdom Mars! Beh ti rendi conto? Ti rendi conto? Ma che è triste mo! Ti rendi conto? Ti rendi conto? Ma comunque sarà un anno pieno di giochi eh! Mamma mia! Ragazzi però vi dovete mettere... Ma ok ma me sta a partire! Ma ok ma me sta a partire! L'epilessia! Ma che cazzo so qui! La prossima settimana esce! Vi dovete un po' ammettere e impegnarvi! Mamma mia! Ma perché c'è la di due punti? Ma che è il simbolo del Bari quello? Il simbolo del Bari? Ma è la di due punti con lo stemma del Bari dentro! Ti ho detto bro il gallo del Bari! Ma stai scherzando? Ma è una storia il gallo del Bari! E' la di due punti! Cosa è cv2? Magari ora! Una hit! O sai che però non ti dico... Ti dico de no! Però potrebbe essere Gagliardo! Questa è roba... Questa è roba... Questa è tipo rog... Ti vedi? Questa è tipo rog company! Questa è tipo Hotline Miami! E questo è tizino! Fida te! Questo è tizino! Fida te! Gente o sei! Questa è... Questa è My Friend Pedro! Eh! Ma è qualche logo! Quello è bellissimo! Ma chi è il Joker? Oh Danny Lazzarino! Hai visto c'era il Joker cicione! No ma io qui non gioco che c'entra! Io li guardo e basta! Beh si fu dall'alto con le pistole! Oh Capoccio che volemo fa? Capoccio! 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 Go! Questa ha la schiena! A creare i soldi! Capocy! Ce li ho aspettiamo dopo! Si è appena svegliato ecco! ecco perché è tutto docile ma aspetta che si sveglia e appena metto deve saltare quello c'ha il guanto dell'infinito là dietro eccolo Warframe andiamo a giocare Warframe faccio dopo Warframe adesso prendo il tamese e faccio fare un po' di Warframe 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 mi fa cacare mi fa cacare Warframe no no ma io una volta per sbaglio ma brutto Warframe no e comunque è questa signorina un po' di Warframe un po' di Warframe forza Romale forza Romale forza Romale forza Le forza Le forza Le e questo è se stiamo a prendere Warframe magari c'è casca porco Dio magari c'è casca mancò a stancarsi vuoi 20 milioni perché sta in scadenza magari c'è cascarsi davvero ma Dio ma stanno a fare GTA 6 bello a Ditti non è che devi fare simpatico è una mancanza di rispetto clamorosa la tua già ma scusami ma oggi riesci a streammare perché l'ho trovato qua ok pensavo fosse nel trailer che gag Ditti 2 wow ma quanto fa ridere Ditti 2 guarda io non riesco più a tancarlo da troppo rire mi botta a Loveda anzi facciamo una berra vai allora apri questo pull ok e nel pull ci scrivi 0 1 2 e 3 titolo del pull quante volte Ditti 2 ti ha fatto ridere da quando lo conosco proprio madonna bello Darka grazie di 2 in realtà Ditti 2 è un burlone è che c'è il suo umorismo Ditti 2 è Warframe e chi l'aveva capito Warframe check it up watch Tenno live on Twitch da Friti Danna e invece watch Tenno con per Crescent Night ah che sono degli streamer Tenno con sarà una fiera Tenno con e vado a sentire i pistoli nella Fendi e poi attacco a stream ciao 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 patato ma come te sono 9 e 10 un'ora di niente una bella ora di che poto farmi ragioniamo cosa hanno annunciato un alien che è isometrico quell'altro gioco che pare alien ma non è alien allora De Figo Callisto quello che già si sapeva e quello di alien che non è alien esatto Call of Duty 19000 e questo delle waifu ovviamente ovvio ti ce lo giochi subito AIAIA измен ill ai 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 ah 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 ya frazoma a te che ne pensi della vicenda tra touche e simba che cazzo mi hanno chiesto in chat ma simba non è del leone si però non lo so mi hanno chiesto cosa ne pensi tra touche e simba se hai seguito io non so manco chi siano tu riconosci no che cazzo è touche e simba che cazzo ne so Ita, grazie dei 30 Mio padre assoluto Ma comunque sai che cattoccherebbe fare? Ah Voi su Fortnite Ma fai a piatta l'Undercool Te stai cominci a entrare, quando streami troppo Stai entrare in quel lupo di stronzate E mo cominci a inventare il nuovo Zuku Zuku Secondo me Ma sai da quanti ore ti sto streamando? Eh, tipo da 10 11 e 30 Ah sì Nel turbo Ma facciamo una maratona 24 ore Ditti, dai, deciso Ciao, già ho improvvisato Fai la 24 ore con me, Fazio Io mi faccio di Tua madre, Ditti, due Sono due rapper che fanno i criminali e si picchiano Ah, dei grandi Questo è Aslan Oh, bellissimo questo tizio Ma che è Genshin Impact Vero? Ah no, è anche sempre questa cagata Questo è L3SKL Si è già scaricato Oh, ma che è quel wallpaper poggers? Ah, ci gioco subito C'è quella dea? Firex, grazie 40 Ah, è un altro gioco questo È mia sorella, Fazio Che ne vuoi dire, scusami Questo è una ficca Ah, solo questo dici? Non può fare niente? No, dico solo che è una ficca Guarda, non mi toccare, eh Dico che è una ficca rispettosamente Un nuovo gioco A ZENLESS's notable character Armed enemies And world of danger Ma che è un altro gacha questo Bel gacha dove devo mettere 1000€ Oh Dei 2D Sì, ci sono delle dee 2D Hellboy Kingdom Hearts Sì, ci sono delle buba Datemi le dee in 2D Datemi delle tettone succinte Vediamo dopo, dammi Va a fare le nenne sul lettino Ciao Ciao Io saluto Comunque sarebbe proprio bello Se potessero parlare I mici e i cani Quanto ha già valgato Gianmarco Dici l'evoluzione ci sta arrivando Ci è rubato il posto di lavoro Uomo panda Che è sta roba? La madonna Questo quando lo giochi Sta tutto Allora il gioco sta così Grandi schermetti Schermettini Sarà qualche easter egg strano World Premiere Mamma mia E' 2022 Ma io ti dico Questo sarei stato felicissimo Se fosse stato un gioco Non impizzellare Io giocavo a quello del Game Boy Sì Era difficilissimo Era impossibile quello del Game Boy Era tipo il gioco più difficile del mondo E guarda che bomba gli sprite Eppure chi è questo? Come si chiama? Ricordo Però non mi ricordo il nome Casey Jones Ecco lì ci hanno risposto Stonk Guarda come pista In realtà sei appassionato Secondo me da hit Sto gioco E che devi essere appassionato De questi giochi così Ah beh a voglia Sì sì esatto Questi dove fai casino Esos Però Come questi qua Anche super tryharder Andano nel letto Senti con botto Cazzo era Ha distrutto No I giochi che abbiamo messo nelle best Allora noi facciamo Abbiamo fatto delle best prima Senti qua Con 10 opzioni Fanno vedere Due punti Avatar God of War Hogwarts Legacy Spider-Man 2 GTA 6 The Last of Us Li vediamo tutti Ne vediamo almeno 3 Ne vediamo meno di 3 Non ne vediamo nessuno Per ora sta vincendo nessuno Vabbè grazie al cazzo Beh almeno uno di questi Io voglio decisamente Io voglio Se devo scegli Io scelgo Avatar Sai Però è pure lontano Ogwards hanno già fatto vedere Eh però Ogwards Boh Potrebbero anche farlo rivedere Ci sta Warner Capito Oggi Era quello di prima Mi sa E' questo Cuba Katarina Saints Row Ma basta Senza la torta Gaglioni Ancora devo uscire Lucian Via Mamma mia Come vaga Con che stile Guarda Vedi che c'ha le macchine viola Su me so E' davvero i Saints Sono un po' strani Sai che giacchettino Fate a correre Ma madonna Perché è un battle royale Eh può essere Ma è sta caponata Ciao Mango Super people Vabbè Questo che giochino è Lo conosco di nome ma C'è qualcuno che spiega Che giochino è È becca Humankind Per gestionare Civilization Mollo Si sta segando Stanno appresentando tutto a raffica Comunque Ebbè sì Oh ma chi è sta fica Bubba Ah ma è sempre la stessa Magari Volevo svilane Con le varietà Eh sì E' Cloud Atlas Xbox How far will you push Humankind Ah è quello la deludina Ma sempre humankind Ok Carino Beh ti cazzo di dieci Gioca al Game Pass All day one Oh mi faccio una bella sega Eh no era quello del gioco Perfetto Andata così One Piece One Piece One Piece One Piece One Piece Monkey di Luffy Il gioco però è un annuncio Di qualche tempo fa Perché ho già visto un trailer Il gioco è casato solo il Maseo Apparepparenda Mamma rinna nare Oh no Ehm Uhhh Uh Pazzo t'hanno rubato la nave Eh niente Gigi La sciurma è in veicolo Come si chiama questa? La nave? Eh Merry qualcosa business la stroberri sanni pausanza anni ma perché un'altra da anni adanzani per me dicono è un'altra nave hanno cambiata vabbè ma che io ho visto tre puntate su italia 1 quando ce l'ho 10 anni sicuro da piccolino io poi la going mary col pupazzetto che si allungava le braccia proprio l'era comunque elastico e un giorno l'ho tirato forte si trova cazzo 34 la sur di questa è un pisto spoilerato andava così spoilerato e comunque c'è tra il gioco nuovo e live action di netflix lo stanno pompando one piece come franchise vabbè fa bello voglia cazzo oh in an odyssey beyond imagination one piece odyssey oh 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 dai, ci fai vedere qualcosa da 18 mo, sono le 9 e 20? No, impossibile! Impossibile vedere un gioco normale Ma non ci stanno, fazzo Ma questo è Genshin Impact davvero, mi so Ghost in the Shell Oh, madonna Elegre Skelly, dira fuori le pinzette Carichissimo Vabbè Soul Huggers 11 ore e 40 di stream, fazzo Per NerdWallet Eh, sai che, esatto, sai che manca ancora? Un bel trailer del GTA V Vero Guarda un po' che il sevele Oh sì, sconti di Epic Games Wow Che grande gioco Che cos'è, PC Simulator? Quello esiste, sì, è tipo un PC Te l'ho pure ma non l'ho mai giocato Mamma mia che caponata Oh dai, ti da fuori le 8 Cosa se tutti i tuoi giochi fossero in un unico posto? Questo è il Game Pass Xbox Oddio, tutti insieme? Oddio, tutto insieme? Sono una TV? Non ci credo Eccolo, tutto insieme Samsung Gaming Hub Sea of Thieves nel 2022 I can't believe it Solo qui Solo Summer Game Fest Solo ho comprato No, mi fanno cagare le TV della Samsung Sgrog C'è un po' di sgrog Cos'è, Mad Max? Mad Max? Mad Max Mad Max Cappe gomma Oh sì Un nuovo gioco Wow Falla con me, Valzo Infermibile Muove il bacino Muove il bacino Markade Stadium 2 Mario Stryker Oddio, Mario che tromba finalmente? No, impossibile trombare Oddio, si è avvelenato Se la falla addosso Non me la diti Markadeo Ce ne sfondo Per quello Disponibile dal 10 E io ce l'ho Disponibile proprio ora Mario parte lo stesso Ciao Carl Che sta a fare qua? Pazzesco È un gioco musicale Noob Ma è arrivato adesso Qualche gioco podcast annunciato Certo Allora c'è Sleeping Simulator Paperino Avventure nello spazio Exact che c'è Fat Sub Doom di poveri Vero infatti stava di Mi ricorda Doom Vero infatti stava di mi ricorda Doom Vero infatti stava di mi ricorda Doom Dato che è sicuramente c'è Dato che è sicuramente 5 Dato che è sicuramente 5 Dato che è sicuramente un poverone Super one Super one Super one No a mezzanotto favo Mario Striegers In teoria In teoria Vediamo a Max Ma viola Eh ma comunque se vuoi Fazzò Potresti giocarti tutto il tutorial Sulla demo Ma col cazzo Non mi va Vabbè No è per imparare tutte le mosse Eh ma tanto devo parare di far tutorial No non è obbligatorio Ma non ce l'ho la demo Ma è scaricata Vabbè Made in 2? Ah no Metal Helsinger Quello che abbiamo appena visto No? Eh si Oh è uscita una demo adesso Joffrey Un gioco che esce domani Stringhi Stringhi Joffrey Tira fuori il ciotto Manca mezz'ora Eh no no Cazzo è finito No Ah ci deve essere Una cosa Ok Ma se sei la tua famiglia No Vabbiamo a far volume Che sei in bracciotto Il canale principale in quella settimana è The Game Awards Er query Sì questo sì Bianco Grazie 22 What? Welcome to the query Porco dio Porco dio Io prima Mi sono ricordato Ho scommesso con un ragazzo E io ho detto Sì Ho detto Punta 250.000 punti canale Sull'opzione del pronostico Che fanno vedere almeno tre cose Tra The Last of Us GTA Spider-Man World's Legacy Quanto pure Avatar Se non succede ti regalo tre sub su tre canali che vuoi te Vabbè comincia a gift ammelo Infatti Ma sapevo di sì Cominciate a ammesso sub Oh succede il miracolo La vedo tragica Vabbè questo tocca giocarlo domani Tocca E forza Questo tocca Nightingale Questa è un'altra cosa Hanno già fatto vedere Tuo con Ciro Ah sì Ciro ha le palle dentro al culo Chiesa rientrare tutte dentro No Con Gianco non si fanno più giochi No Gianco è incredibile Non si può più fare niente Con Gianco Oltre che lo devi Gli devi Gli chiedere sei mesi prima Poi Poi se poco poco Si annoia E fa No 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 io non lo faccio più Ciao E va a giocare a Minecraft Esatto Cos'è questo? L'hanno già fatto vedere Dici? Ecco è Nightingale Sì Catoia Prima o poi ne vado Rust 2 Puoi draftare Quanto manca alla fine Ma non molto Non molto Questo è il signor Rust Rust 2 Un troll Sto aspettando per arrivare Gli incubi di Memphis Stai pronti con il tuo Stai pronti con il tuo AXPAC Era pure un padre Che ho visto Craft Realme C'è schifo Ma sembra mezzo Sembra carino Influenza la tua Destinazione Spilda una vita Spilda una vita Ah è pare carino Ah è pare carino Prodo Livello infinito Dodo fuor Saints Row Noi sono due anni Che stiamo a vedere Ma tutto il cazzo E dai Ah una demo Sì Deve essere da parcare Che sti cazzo Ma c'è la dildo gun Sennò non c'è gioco Eh sai che su me non ci sta Ma c'hai del pipo Eh sì Eh senza me è sempre stato così Eh lo so Oh cazzo Ok Che cazzo Be the weirdest Ma chi è quel tizio Un ciavate Ah oddio Perché gli fai la foto E lo fai simile Cioè Ma c'è la cazzo Ma c'era Morbius Che paura Merda Morbius Ma ti hai visto Giro Hai scappato Eh Hai visto Giro Usa visto Nekton just round Credibile Ormai in testa Solo Morbius Morbius Hai visto che hanno fatto Tornare Morbius Al cinema Sì Si ha rifloppato Un'altra volta Esatto Nonostante il meme Che geni Bisognerebbe farlo Andare un'altra volta Ci sarebbe Il finale E tipo No ma questa volta Ragazzi Guardate con l'andiamo Tutto il cinema Questa volta ci andiamo ragazzi Sì Flulless Oh che ci penso Io manco l'ho visto A pagamento Sono andato all'antena Gratuita Vabbè Che fanno gratis Che fanno vedere Come far personaggio Olè Urammer Martello di guerra 40.000 Marea oscura Marea oscura Ma tu ci pensi Ai giochi in inglese Cioè tutti poi fanno Che so Elder Ring È giocato ad Anello Eldenico L'Age Sì esatto E' giocato Il nuovo Il nuovo titolo Di Della casa Ancestrale Dalla casa dove Anello Ancestrale Sì ma è come Che ne so È giocato Gli ultimi di noi Ma è giocato A chiamata Al dovere Esatto No Chiamata al dovere Bellissimo Perché le dici in inglese Per noi italiani Per dire tipo Ok È come Devi giocare un gioco A un po' Pippo avventure Eh fanco Ero convinto Che ci fosse Cioè Tantasia finale Sette Fa zoom È giocato A grande furto d'auto Ma cosa è sto gioco Zì è carino È giocato A pianto lontano Che meme E tra di noi L'hai giocato Fa zoom Tra di noi Grande hit Tra di noi Questo sembra mezzo Sdroga Fa zoom Ah sì È il warhammer È il caos Però se mi si era Un attimo Spenso il cervello Mentre guardavo Sto gioco Ma warhammer Non era quello Che era armati No Quello è world of times Ah ok Warhammer Warhammer Non è quello Con i pupazzetti Da dipingere Eh sì È quello lì Non è questo Warhammer No Questo è warhammer Però il gioco base È quello con i pupazzetti Da dipingere Che costano tipo lira Di dio Poi erano bellissimi Quelli Quando andavo Alla ludoteca A fare i tornei Di magic E c'erano pure Tutti i pupazzetti Di questi qui Che c'erano tutto C'erano tutti Tavolini enormi In cui facevano Tutti Le cose Come cazzo Si chiamano Le scene Tipo la collina La montagna E ci mettevano Tutti i pupazzetti E poi combattevano Ma costavano l'ira di dio Cioè tipo un pupazzetto così Costava tipo 10 euro E doveva C'erano tipo 100 Di questo Come di amiibo no? No no Li devi proprio Li devi proprio Costruire Un ligo da poi Mettere in gioco Eh sì Io ho fatto i tornei di magic Campione Grandi tornei di magic Mi piace la musica Mi piace la musica Ciro Sai che dovresti fa Con queste catene te Non ci sta più Mi sa Ciro Sai Pane sì Grazie 100 Sai che fine ha fatto Peppino? La luce da Gannettuno Cosa vorrei fare Con le catene Dice Ciro Eh Farti legare Dalla dottoressa Guarda In 3, 2, 1 E fa No Old and true Oh Oh Già è tornato di di zocca Oh no Centra anche Eh no Hai visto che sei 46 Uno psichedelico horror Che mazzi giocavo? E beh dipende Che formato giocavo Se era standard Di uno Queste cose qua Dipende dai tornei Quello che giocavo di più era il Goblin Io non ho mai giocato a Magic Sì ma era un T1 nel chill Insect Cioè non c'era gente con i Mox O il Black Lotus O il Black Lotus Ecco Poi i tornei delle ludoteche Ste cose così Modern Oddio Non mi ricordo Modern Cioè mi ricordo C'era T1 T2 Standard Mi pare Conta si tornei Faccio quando c'avevo 12 anni Sì Che o meno Gotham Knights Poggers No spoiler Batman è morto All'idea Fino a 15-16 anni Ho giocato a Magic Credo Fino a 10 anni fa Ah sono cambiati Allee Mia nonna Ma c'è due Apple Watch Fleur Marti Piede sta scorda Fleur Marti Nightwing This showcase Is the first In our character series And we're really looking forward Share more with you As we continue working Towards our launch On October 25th So I hope you enjoy the show And stay tuned Ma che è Olè Bortman Bortman Un po' di Bortman Go to Knots Chi è questo supereroe Nightwing Chi? Nightwing Nightwing Mio fratello Nightwing Guarda come fa Fiufiù Ora che Scusa Tu non hai giocato i giochi Di Batman Mi imparo Eh in uno C'è Nightwing Vabbè Che cazzo Solo ricorda A la notturna Oh micetto Eccolo le ali Guarda che c'è sta La busta di plastica Oddio 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 La busta di plastica È stato di nuovo rincoglionito Dammi Stai Con il stream Da 12 ore Nightwing È il nuovo centrale Della S Roma Esattamente Mi pare Osquali Bagnets Sì sì Oggi Ha giocato Con grande busta Di plastica E rotolo Di cartone Della carta igienica Mai visto così contento Tra tipo Omg Ma lui non è Neil Druckmann Mini Druckmann Neil Druckmann Quello di Naughty Dog Eccolo Neil Druckmann Che ci sta a raccontare Neil E che forse a meno 20 Dicono qualcosa Dicono qualcosa Dicono È una grande monna For Last of Us Fans Perché Last of Us I e II Both lanciano In June E' un anniversario For Last of Us Part II Che è difficile C'è difficile È incredibile 9 anni For Last of Us I 2 anni For Last of Us Part II E ancora Dicono Fans Dicono Leccolini E arte E questi Characters E questa Tramina E questo mondo Dicono Dicono E loro E è È stato È incredibile Last of Us Part II Early Lo immaginavo Molto più vecchio Lui Ma sei un fregno Mai come te Però Fanzo Che è tutto storto Cambia Posizione dove dormire Ogni due secondi Si mette sul letto Poi si mette nel cesto Poi sulla sedia Dice è normale Che cos'è? Che cos'è? Oh Che cos'è? Per multiplayer Sandalon multiplayer San Francisco Quale è il multi dell'uno Era mezzo sdrogo Era male Sapevate multiplayer Cozzano Su Uncharted 3 La cosa più bella Che abbiamo giocato Non era Uncharted 4? No era il 3 Giocavamo Oddio È il 4 Mi sa che era il 4 Mi sa che era il 4 Il platino dell'uno è impossibile Perché devi fare i trofei online Mi sanno chiusi i server pure Oh sì Ok Ok Trailerino Impazzisco Questo potrebbe essere Pogga La serie tv De The Last of Us È la sua cassa Bella E quali è so high È so authentic To what we've made In the game And I just can't I couldn't be proud Of like again Craig And that whole crew And everybody That's up there And actually Their last day of filming Is tomorrow The entire series Last day of filming Is tomorrow Last day of filming Is tomorrow Craig is up there Right now Kind of wrapping it all up So it's pretty close It's closer Than you might think Basta che non facciano Una cosa Super cringe Oh Ma s'hanno già visti Chi faceva Joe e Lely Qui è Pedro Pascal Che fa tipo Narcos Su The Mandalorian Lei stava Nel trono di spade Vabbè C'è stanno C'è fotto Sì Joe e Lely Lo fa Yoshi 93 Sempre in canotta Joe è il 93 Ma perché dire Che non c'è sta C'è sta secondo me Per me c'è Per me c'è tantissimo lui Lei Boh Non lo so Magari è sto frame Che è storto Lui c'è stato E Cristo Lui è pulito Lei è brava Brava come attrice Però non la vedo Molto come Ellie Ah vabbè Vabbè Ellie piccola È tornato Troy Barker Ah è vero che lei fa la doppia Giorielli Ma magari Pedro Pedro Bello Ma Troy Ashley Out here From the game Right So When Craig And I started working On the show Almost one of our very first meetings We said Troy and Ashley Have to be a part of it And we're such fans Of like The talent And the Helping us create Joel and Ellie We felt like It was so important That they become part of the show And it wasn't It has to be more than just Mommy Please Mommy Please Ma più che Bubba Bubo Guarda che fregno Troy Ma quanto è alto poi Enorme E gli altri sono bassi Può essere No però sono due altri Sì questo sarà 1,90 È enorme Guarda lei quanto in alto Deve guardare E' una delle cose più difficili Per noi Di fare Non lasciare La gente Siamo molto orgogli Con il lavoro Che abbiamo fatto E abbiamo lavorato La squadra Deve dire Quando andavo Avuto a set Di metto Di metto Di metto Di metto Di metto Di metto Ah sì ma almeno E' vestito da conferenza Tutto bello Spettito Pulito 1,91 Hanno cercato su Google E l'ho detto Che era Gli altri possono essere Pure e bassi Ma fino a una certa Sì L'attenzione A dettaglio Da 20 gentili E l'ho detto Bella e Pedro è molto buono mi piace la storia mi piace essere parte sono molto excited per la serie e il fatto che voi saranno in un indisclosato veniamo per più barts Bob e Weven e questi caratteri che noi conosciamo dei nuovi caratteri che ci dicono qualcosa mi piace mi piace questa tagliavo di lui Marb Marb grazie risate cringe oh bella la conferenza sui giochi non male era questa la cosa che avevano l'iccato e remake del vasto vasto 1 ma remake li fanno tutto si si non remastered remake mi pare il gioco ok no è un po ok no ok comunque ricordati che ovviamente della stovasuna era tanta roba a livello di grafica che si no certo per 9.222 che balletta al contrario ok è pure vicino beh no no se vede dai che è mezzo di fatto si 2 settembre dopo vicino a fifa non si può giocare e comunque anche su pc hanno detto eh si mezzo interessante infatti su pc eh prego io lo stupo al senso ah muro che hanno parte 1 ah però vedi a settembre lui sa sta tagliando arti 71 e gli è culavo eh si a settembre però su ps5 su pc è in sviluppo allaccato vendete sonari e che gli è i somari 70 euro oh bello cambia parecchia eh si perché è letteralmente rifatta con la grafica del 2 è la ld della stovas 2 si wow no bella differenza cazzo e quella di sinistra è la remastered è nemmeno il gioco originale manco il gioco base vabbè che mi fai vedere queste immagini sono completamente diverse in effetti in effetti non l'ho capita anche io questa cosa la si era gestita male su pc sicuramente caccio 70 euro occhiolino ci sono gli sconti eh si marco grazie di 5 comunque si 70 euro è da ladri se costa 70 euro è da ladri 40 40 è onesto 70 è da ladri nel senso me di giocare mastered sti cazzi che poi dipende aspetta perché se è remake remake ma solo grafico albi grazie per il prime bentro è da ladri però se è tante euro però mi ricambi tutto il gameplay come hai fatto alla parte 2 allora ci potrei quasi stamano penso che abbiano toccato il gameplay non lo so secondo me il gioco è uguale ma è tutti i modelli grafici tutti rifatti proprio appunto le animazioni sono tutte diverse l'IA vediamo vediamo questo è l'1 non vi serve aver giocato altro trovate questo e poi il 2 eh appunto valla te lo sto a dire devono aver cambiato anche il gameplay mi hanno di fatto col gameplay del 2 che è una delle cose più belle da giocare tipo la fisica eccetera eh sì le animazioni come era fatto era troppo pulito il 2 eh è un po' prima di parlare magari se qualcuno in place vuole la leak poi possiamo parlare ora altrimenti abbiamo un nuovo progetto sì però King mancano 8 minuti levate dal cazzo perché se non esce la bombetta è un pazzisco eh thank you so much e andatevene dal cazzo ah fazzo ti confermo 70 molluri 70 bombe sì 70 molluri e 100 per la edizione delle luci pure capito capito vabbè quindi praticamente la conferenza di oggi è il leak di due ore fa su twitter ah è finita sì adesso caccio il gatto caccio il gatto insomma gamescom 23 costo woo grande io vorrei con l'altra sub scrivi in privato lego da chi la vuoi e te le regalo oh coglione di da me c'è un po' scam era difficile mettere nessuno vabbè c'era della stovas però il punto è che della stovas mi sento un po' capito è uno già l'iccato è uno l'iccato è già ok remake bellissimo figo riviviamo le avventure di joel e mio nonno ah elly è tuo nonno sì certo ma che è sì cantato poco si caco vabbè io vado a nanna cap mo tirai ciao dittino ciao buona stream buon mario striker ciao 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 ho pagato le bet ho pagato le bet leggo scrivi in privato da chi da chi vuole il sabbetto io vi rado il fazzone ragazzi ci vediamo domani in stream se non moriamo con mario striker comunque 12 ore e un quarto di stream non per dire 12 ore e un quarto vediamo domani domani proviamo mario striker e sono cotto sì sono morto tipo sono mortino a domani ma soprattutto noi ci vediamo sempre tra le stelle scadush grazie a tutti